Grazie a tutti. E' una puntata speciale di Fumble. Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano e oggi siamo a Torino alla tesoriera che ringraziamo per averci ospitato qua, per aver ospitato il Toplay, che è una bellissima manifestazione organizzata dal Fortuna Dado, che è un'associazione qua di Torino di giochi da tavola di ruolo. Ci hanno invitato a fare una puntata speciale, adesso aspetteremo che arrivi magari anche qualcuno nella stanza a seguirci, ma intanto voi ci state vedendo in video. E' una puntata speciale per tanti motivi, prima di tutto appunto perché siamo qui a fare una puntata dal Toplay direttamente. La seconda è perché proviamo l'ultima versione di Monogatari, con le schede nuove, le regole nuove, i mostri nuovi. E poi iniziamo il primo pezzo dell'avventura che poi troverete nel manuale finito di Monogatari, che uscirà a Lucca. Che è anche ciccione, mi dicono. Sono venute 170 pagine di manuale. Quindi sì, abbastanza cicciosetto anche quello. Due parole veloci su Monogatari Clotos e il resto prima di iniziare. Monogatari è il primo hack ufficiale di Clotos, ma non è il primo hack di Clotos, però è il primo che verrà stampato insieme al manuale base. Non è un gioco a sé stante, non si può giocare da solo perché il thread system che usa è lo stesso di Clotos e non ho replicato tutte le regole che ci sono in uno nell'altro. Quindi dovrete comprare entrambi per giocare a pieno a Monogatari. Il Monogatari è la versione in salsa giapponese di Clotos. Salsa giapponese perché i personaggi saranno dei samurai di diverso tipo. Ci saranno ninja, ci saranno monaci, ci saranno geiche. Tutti comunque personaggi delle più classiche delle storie di K e spada giapponesi. E diventa centrale il punteggio di onore e disonore che sostituiscono praticamente i punti fortuna e le sciagure di Clotos e aggiungono delle nuove regole fondamentali per capire come funziona Monogatari che adesso vi dirò brevemente. Perfetto. Innanzitutto il limite massimo di dovere e di onore e disonore non corrisponde più al numero di fili consumati. Ma dipende da quanto i punteggi che avete messo sono più tendenti all'onorevole o più al disonorevole. Perché i sei approcci sono stati sostituiti dai dettami del buscido e ogni dettame ha un suo corrispettivo disonorevole, un comportamento disonorevole e tra questi due aspetti della stessa area vanno divisi cinque punti. Quindi uno dei due sarà sempre maggiore dell'altro. Se hai più coraggio che quadardia avrai un punto onore e se hai più quadardia che coraggio avrai un punto disonore e così via. Esatto. La riserva di onore e disonore quindi non cambia mentre si prosegue l'avventura a meno che il master non vi voglia premiare in qualche modo, qualche potere non vi permetta di cambiare delle cose in tavola eccetera eccetera eccetera. Onore e disonore si possono usare come venivano usati prima per migliorare o peggiorare azioni da parte dei giocatori e del tessitore, però il disonore può essere usato solo quando il giocatore supera la propria riserva. Quindi quando superi la tua riserva di disonore il tessitore è costretto a usare tutto il disonore che hai accumulato per farti capitare più cose brutte. Questo significa che più disonore hai, meno le piccole sventure ti capiteranno sulla schiena, ma più quando le cose ti andranno male, andranno male, 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 male. D'altro canto avere poco onore o molto onore cambia quanti punti ogni volta puoi accumulare o tenere da parte per usarli dopo. Se ne hai molto poco vuol dire che hai molto disonore e ti capiterà poca roba cattiva, però è anche vero che tutto quello che accumuli lo devi usare subito e quindi anche i tuoi successi saranno dei successi limitati. Certo. Un'altra cosa importante che cambia rispetto a Clotos è l'iniziativa, perché in Clotos l'iniziativa era prima tutti i PG e poi tutti i PNG, quindi il tessitore fa tutto insieme, adesso invece tutti agiscono in ordine di onore. Perfetto. I PG però possono prendere volontariamente un punto disonore per agire quando vogliono, nel round, nel turno. Giustamente. E se quello è il punto che vi porta oltre la vostra riserva di disonore, prima agite e alla fine della vostra azione le shagure arriveranno. Ok, quindi comunque possiamo agire prima di pagarla. Esatto. Ok. Perché siete delle persone orribili che agiscono con disonore. Mi sembra di essere. Per il resto le domande che ci saranno sulla scheda sono simili ma leggermente diverse, non c'è più qual è il mio errore più grande ma che cosa macchia il mio onore, che non è detto che sia un errore, un problema, cioè è un problema ma non è un errore. E c'è un nuovo tipo di legame che è il filo rosso del destino. Certo. Dato che i giapponesi mi l'hanno servito su un piatto d'argento, l'hanno chiamato loro filo rosso del destino, io ce l'ho inserito. E' un legame che si può avere anche con un personaggio non giocante e che vi permette di tirare col vantaggio ogni volta che agite nel chiaro interesse di quella persona. Ok. Direi che queste sono bene o male le grosse differenze, ce ne sono altre ma non stiamo a vedere tutto nel dettaglio adesso. Magari una. La tenacia. Ok. I punti ferita non ci sono più, c'è la tenacia che è sempre tre per tutti e che rappresenta le vostre ferite fisiche, mentali, di orgoglio, di qualsiasi cosa. Un concetto molto giapponese, esatto. Una cosa banale, che però banale non è per chi non ha mai visto giocare monogatari, a Clotos oltre alla costellazione che scegli, quindi la scegli dal manuale base, aggiungi anche una casta. Potresti essere un Bushi, quindi un guerriero samurai, potresti essere un Ronin, una Geisha, eccetera, eccetera. È quello a cui Claudio accennava prima riguardo il fatto che ci sono, come si dice, tutti i trop più comuni dell'ambientazione, delle storie del Giappone di campo e spada. E l'ultima grossa differenza che mi sento di farvi notare, perché sarà rilevante per la partita che stiamo per giocare, è che non potete usare più di un filo per scena. Giusto. Quindi dovete scegliere con cura qual è il momento giusto nella scena, per dire questo per me è un momento importante. Sì, certo, perché la giocata che abbiamo fatto qualche tempo fa, come Roberto che masterizzava, se fosse stata fatta in monogatari, invece che spammare quattro fili in un combattimento solo, quella era una scena. Esatto. E quindi sarebbe stato uno. E' anche vero che qua è molto più facile avere dei poteri che ti permettono di migliorare il tiro, di tirare col vantaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è compensato da questo. Però c'è sempre il rischio di non riuscire. Eh, giustamente. Vi chiederei a questo punto di presentare i vostri personaggi, in particolare di spiegare a che cosa macchia il vostro onore. Ok. Allora, io sono Ayama Akagi, ero il figlio primogenito del Daimyo e purtroppo il Daimyo, che era anche mio padre, è ancora uno stronzo della peggior specie, che porterebbe il nostro feudo alla rovina e la nostra casata alla rovina nello stesso modo. Io e mio fratello minore Akira Akagi siamo cresciuti con l'intenzione di… siamo due mele cadute molto lontane dall'albero e siamo cresciuti con il sogno di riportare la casata Akagi totalmente in salute e in una condizione decorosa e onorevole. Io e Akira ci siamo scontrati molto spesso, ci siamo allenati duramente, abbiamo cercato di percorrere, cioè di obbedire ai dettami del Bushido e percorrere il Do, ma a un certo punto è stato molto chiaro che fino a quando ci fossimo adattati comunque alla vita di corte e ai suoi agi, non saremmo mai stati sufficientemente forti da poterci realmente mettere contro nostro padre e riprendere le fila della nostra famiglia. Sì? Quindi cosa abbiamo fatto? Wuhuuu! Non siamo morti per me! Bello della via! Chiudo io! Quindi abbiamo… ci siamo scontrati a duello per vedere chi dei due sarebbe… era il miglior spadaccino e per noi essere un buon spadaccino significa essere un buon samurai e io ho vinto il duello. Il nostro accordo è stato questo, chi di noi due si sarebbe dimostrato più forte avrebbe rinnegato la famiglia, avrebbe viaggiato per il Giappone, avrebbe indurito la sua scorza e percorso realmente il Do, la via, fino a quando non si sarebbe sentito pronto a ritornare, mentre l'altro fratello sarebbe rimasto a cercare di tenere le cose sotto controllo per evitare che capitolassero troppo presto. Io, uscito triunfante, ho lasciato la mia katana a mio fratello dicendogli che sia ritornato e ho cominciato a girare per l'impero come un ronin, sfidando i guerrieri più forti e cercando il mio sentiero del Do, sfidando i guerrieri più forti solamente con la wakizashi e il fodero della mia katana. Ciò che macchia il mio onore è che io ho lasciato Akira Akagi a soffrire dal posto mio e di questo mi sento ancora colpevole. Il mio figlio rosso del destino ovviamente mi unisce ad Akira, mio fratello. Ovviamente questo è ciò che io so di me stesso, ciò che il mondo sa di me stesso è che io sono un ronin che ha rinnegato la famiglia, che ha rinunciato al suo onore e che è mosso solamente dal gusto per il combattimento. Quindi sono molto frainteso, ma a me questa cosa non interessa. Infatti io sono un ronin della costellazione del folle e ho già speso due figli del destino, uno perché sono inconsapevole del pericolo, quantomeno la realtà è che ne sono vagamente consapevole, ma questo, il pericolo non mi ha mai fermato e non mi fermerà mai perché non mi interessa morire, mi interessa tornare dal mio fratello o morire tentando di farlo. E l'altro filo che ho bruciato l'ho utilizzato per prendere senza padrone. Senza padrone è un potere del ronin che ti permette di avere un valore di onore e disonore non direttamente correlato ai tuoi valori nelle virtù del samurai. Infatti io ho alcune virtù disonorevoli perché è il modo in cui vivo, ma in realtà io mi sono messo sei ad onore. Perché il motivo per cui sto facendo questa cosa è assolutamente onorevole e io ho trovato la mia interpretazione dell'onore. Basta. Allora, invece io farò un guardiano bushi, in particolare mi chiamo Ryove Oda, sono di nobile famiglia e sono molto di bell'aspetto e delicato. Le donne mi amano, sono infatti una certa fama tra le varie cortigiane. Sei come Acusecchi. È vero. Sono comunque riconosciuto come una persona molto onorevole che segue la volontà della famiglia, anche se nel passato ho avuto un duello in cui ho perso e si credeva appunto che fossi anche morto. ma dopo pochi mesi in realtà sono sopravvissute e quindi sono ancora sulla piazza essenzialmente. Quello che macchia il mio onore è che in realtà io sono la sorella gemella di Ryove Oda, ovvero sono Reiko, che ha preso il suo posto perché non sopportava l'idea che il fratello fosse macchiato da questo disonore di aver perso un duello e quindi ha preso il suo posto, il suo nome e anche il suo ruolo nella famiglia. Ovviamente il padre è a conoscenza di questa cosa e quindi meno male questa cosa all'interno, tra i familiari, è risaputa. Non è ovviamente conosciuta all'interno di tutto il clan, questa cosa è nascosta. Ovviamente il mio scopo è quello di cercare di fare di tutto per mantenere vivo il nome del clan Oda. Ok. Quindi anche un po' come Umon. L'ultima volta a Fumble questa cosa non è finita, bellissimo. No, bellissimo. Infatti vi raccontavo qualcosa, non l'ho fatta poco. Allora io invece ho preso uno shinobi distruttore, mi chiamo Anamichi Sakuragi, vengo da un villaggio rurale alle pendici di un vulcano, quindi vita durissima e pochissime soddisfazioni nel mondo. Sono sostanzialmente un trovatello, nel senso che la mia famiglia non mi ha mai dato tanto retta. Un bel giorno nel villaggio è passato un compratore di bambini, perfini non meglio identificati, ha dato un bel po' di soldi alla mia famiglia e mi ha acchiappato, non prima di avermi toccacciato come si tocca a un animale, cioè verificato fisicamente. Dai, 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 dai. Da posto, esatto, proprio una cosa così, come si compravano gli schiavi una volta. In realtà non era un compratore di schiavi, era un compratore e addestratore di ninja. E quindi ho cominciato allegramente la via dello shinobi. A chi sono fedele sostanzialmente alla mia missione, nel senso che mi hanno addestrato ad avere, oltre che molti pochi scrupoli, anche a farmi molte poche domande relativamente allo scopo di quello che faccio io so che devo fare quella cosa, torno e ci sono soldi e quindi la mia vita può andare tranquilla cosa macchia il mio onore? Onore, che parola inutile non mi interessa niente a me dell'onore nel senso è una cosa che lascio ai trastulli di corte io di solito nelle corti manco ci entro e quando ci entro all'ordine di stare zitto e basta chi è il mio filo rosso del destino è un fantasma, vero fantasma quindi uno spirito che mi perseguita cioè non mi da requie perfetto non come il nonno dei cinque anelli del monaco che ogni tanto arrivava gli te a uno sbellone cioè questo è proprio uno spettro a me mi terrorizza, non è una roba similbonaria non ti permette di dormire esattamente perfetto Kusanaga Takayashi il daimyo del clan Iranuma regna da anni con pugno di ferro sulla regione di Kuroyako dall'alto del suo palazzo a Okusa è un dominio praticamente indiscusso grazie al favore che l'imperatore gli ha concesso ed essere nelle grazie dell'imperatore l'ha portato a poter mettere il proprio clan sopra a molti altri clan il che vuol dire che mettersi contro di lui potrebbe anche essere l'ultima cosa che un samurai fa perché il suo potere è molto vasto l'unico che si è opposto al dominio del daimyo è stato lo shogun Tokugawa Morino il più feroce generale imperiale che ha cercato più volte di spottestare Kusanaga per rimettere sostanzialmente i nobili al loro posto perché avere un nobile che sta sopra gli altri così vicino all'imperatore rischia di mettere in pericolo l'intera struttura imperiale il palazzo è imponente pronto a resistere agli assalti dello shogun le mura sono state rinforzate più volte durante gli anni e allo stesso tempo è opulento come se cercasse di umiliare e sminuire gli ospiti del palazzo che non saranno mai ricchi e potenti quanto è questo Kusanaga Akagi tu sei stato invitato dal daimyo a presentarti a corte perché vuole mettere alla prova la tua spada con il suo spadaccino più importante non potrei chiedere di meglio e dato che ha sentito che il tuo unico scopo è viaggiare per l'impero alla ricerca di qualcuno in grado di batterti con la spada vuole testare queste tue abilità ah giusto spesso io vengo chiamato Noraino che vuol dire cane randaggio ok magari non me lo dicono in faccia o magari me lo dicono in faccia apposta dipende molto se sono più o meno importante di me o quanto me lo vogliono far pesare quindi quando arrivi al palazzo del daimyo ci sono diverse guardie comunque che pattugliano i camminamenti e due guardie alla porta che però è aperta e dato che tu hai la targhetta di legno che ti è stata mandata come invito a palazzo che è ufficiale ti fanno passare senza storia senza storia io lascio le armi le armi infatti ti viene dato uno spazio all'ingresso del palazzo proprio per appoggiare la tua wakizashi e il fodero della tua spada esatto io lascio il fodero guardando negli occhi la guardia con il canestro che mi ha messo davanti agli occhi e gli dico stai molto attento a questo ci tengo lui ti guarda prende la cesta e la sbatte in un angolo con nonchalance proprio dicendo le armi di un cane non hanno nessun valore fino a quando non affondano nella gola di chi lo ha sottovalutato in questo momento sono io quello con la spada vuoi un duello? mani nude contro spada non è questo che mi ha chiesto il mio padrone e vedi che facendo un attendente di avvicinarsi arriva davanti a te e ti dice chiedo perdono per le brusche maniere della nostra guardia sono sicuro che le sue intenzioni fossero solo di protezione verso il nostro signore io non sono dispiaciuto delle maniere brusche sono dispiaciuto della quadardia che ne è seguita spero che non abbiate molti servitori che nascondono la quadardia dietro al dovere non posso parlare per ciascuno dei servitori del nostro sommo daimio come è giusto e ne io voglio farlo aspettare seguitemi e ti conduce in un corridoio camminate non tantissimo in realtà il palazzo è imponente ma la parte dedicata agli ospiti è ristretta e piccola proprio e vieni fatto accomodare in una stanza ampia più ampia di quella dove ci troviamo adesso priva di qualsiasi comfort eccetto quello che sarebbe disonorevole non offrire a qualcuno che ha fatto un lungo viaggio per arrivare fino qua un cuscino e una tazza di tè questo è tutto quello che ti viene concesso non ci sono cibo non c'è acqua non c'è un cambio di vestiti un cuscino e una tazza di tè andrà bene così mi inginocchio sul cuscino e attendo l'attendente esce dalla stanza e ti lascia completamente da solo in questo spazio molto ampio vedi che oltre alla porta da cui siete entrati tu e l'attendente c'è un'altra porta che sicuramente dà nella parte più interna del palazzo da cui arriverà il tuo ospite e l'intera stanza in realtà dà su una serie di corridoi per cui è molto luminosa perché le pareti di carta fanno passare tutta la luce da tre lati sostanzialmente l'unico lato che non è illuminato è quello da cui arriva poi il daimio e per il daimio invece è stato messo un piccolo seggio uno sgabello certo vuoi fare qualcosa mentre aspetti? voglio annusare il tè e voglio comprare cioè voglio capirne la qualità e in realtà non ho motivo per pensare che sia stato avvelenato però l'architettura di questo posto mi suggerisce che questo daimio ami mettere alla prova i suoi ospiti soprattutto se gli deve dare un lavoro dato che gli unici elementi che ci sono nella stanza sono un cuscino e il tè ho già dimostrato qualcosa utilizzando il cuscino quando avrei potuto non farlo adesso voglio interessarmi a te ok fai allora a questo punto una bella prova di umiltà perfetto le prove si fanno tirando un dado da sei e sommando il valore del dettame o del comportamento disonorevole che si mette in gioco e si mette in gioco raccontando quello che fate certo ho fatto 4 più 4 è 8 hai specializzazioni che c'entrino? no perché ho duellare, provocare e iai jutsu allora il tè è appena fatto ti hanno evidentemente visto arrivare dai camminamenti e hanno avvisato l'attendente che stava arrivando un ospite non è avvelenato se è avvelenato è avvelenato con uno di quei veleni in sapori, in odori, in colori impossibili da trovare che solo i ninja di grado più alto possono maneggiare e non è di qualità eccelsa ma non è nemmeno quello che potrebbe farsi un contadino rubando il tè dal campo del suo padrone lo sorseggio lo sorseggio lo sorseggio per il resto aspetto paziente quantomeno vediamo poi quanto tempo passa però per adesso mi metto a aspettare paziente perfetto il secondo ad arrivare è Riobbe il palazzo come dicevo prima è pronto a resistere a qualsiasi cosa ma in questo momento la situazione sembra tranquilla tu che poi sei abituato comunque a vedere come funziona un palazzo perché comunque la tua famiglia la sua tenuta, le guardie e il resto capisci che in questo momento il palazzo è tranquillo non si aspettano attacchi di nessun genere è solo che il palazzo è sempre così armato armato ok quindi tendenzialmente si aspettano che potrebbe esserci qualche attacco sono pronti nell'eventualità succeda però sono anche abbastanza sicuri che non succederà proprio perché possono mettere in campo una forza notevole e solo un folle si metterebbe ad attaccare un palazzo del genere senza l'adeguata potenza militare presente? no ma viene da dentro faccio tre stanze e muoio malissimo niente io arrivo a cavallo entro tranquillamente le guardie non ti fanno le stesse storie che hanno fatto a lui prima ovviamente anzi invece che darti un cesto dove mettere le armi ti viene dato uno di quei poggia spade c'era l'acca cioè l'accato io prendo comunque la mia spada e se c'è l'attendente o comunque la guardia così io la do a lui proprio così la lascio a te e al tuo onore in modo che io possa riaverla quando uscirò di qui la guardia che è la stessa che prima ha rotto le palle al nostro canerandaggio la prende, fa un inchino e la appoggia molto delicatamente sulla rastrelliera dicendoti che la proteggerà con il suo onore nel dovesse andare della sua vita non permetterà all'arma di un nobile samurai di finire nelle mani sbagliate e io faccio un inchino non ce n'ha da senso l'altra guardia prende il cavallo e lo porta verso le stalle e ovviamente arriva anche da te l'attendente che aspetta che tu gli dia la targhetta di invito gli do la targhetta tu sei stato invitato a palazzo dal daimio per un motivo molto specifico il daimio sta cercando di raccogliere dei consiglieri delle famiglie più importanti della regione perché pare che abbia l'intenzione di creare una specie di corpo di guardia imperiale della regione e vuole il consiglio di quelli che ritiene i guerrieri più nobili delle famiglie che fanno parte del suo feudo tu non sei il più forte guerriero della tua famiglia però essendo il primo genito è tuo dovere partecipare o almeno lo sarebbe se tu fossi Riobbe l'attendente ti facendo di seguirlo e ti porta nella stessa stanza dove si trova già il nostro Akagi quando entri vedi questa persona allora in realtà non è né sporca né particolarmente trasandata certo i miei capelli sono raccolti in maniera abbastanza pratica senza particolari cerimonie da un laccio ti sembra più per spirito pratico che per decoro gli abiti sono semplici e consunti non per questo particolarmente sporchi certamente dei segni di trascuratezza ci sono magari un filo di barba di due giorni che è rimasta incolta e in ogni caso ho qualche segno che mi potrebbe identificare come un mercenario o un contadino la pelle è cotta dal sole si vede che ho viaggiato a lungo quando ti vedo c'è un cuscino? no, l'attendente porta un secondo cuscino quando arriva nella stanza Riobbe sembra che lo prenda da appena fuori però arriva con un cuscino subito ti faccio un cenno con la testa che potrebbe essere un lievenchino onorevole samurai tu quello che vedi è comunque un nobile cioè con abiti da viaggio però con abiti veramente di buona fattura dai tratti molto affilati comunque sia molto puliti e comunque molto di bell'aspetto io ti guardo faccio anche io un cenno di saluto senza inchinarmi troppo però ringrazio l'attendente e mi metto a sedere sul cuscino l'attendente prima di uscire vi dice ho saputo che il mio padrone ha richiesto la presenza di una terza persona e aspetterà l'arrivo di quest'ultima prima di presentarsi a voi mi ha anche chiesto di intrattenervi nel caso abbiate qualche necessità o qualche domanda da formi prima di tutto ero stato chiamato per dare consiglio per quale motivo a questo tavolo c'è anche quest'uomo? io purtroppo non so nulla delle motivazioni che hanno portato il mio padrone a chiamarvi a palazzo ma sono sicuro che non ci siano segreti tra nobili samurai beh capisco come mai questo nobile samurai si chieda cosa porti l'onorevole Daimyo che governa questo luogo a mettere nella stessa stanza un aggraziato kami e un cane randaggio ma suppongo che la sua curiosità di scoprire la verità come la mia fretta di duellare con il vostro campione richiederà ancora un po' di pazienza d'altra parte le regole le fa il padrone di casa come sempre sono sicuro che il mio nobile padrone abbia visto il vostro onore ben oltre quella scorza scura che è la vostra pelle l'onore si dimostra in combattimento spero di potermi dimostrare degno della sua ospitalità sono sicuro che così sarà e forse questo potrebbe rispondere anche alla domanda del nostro nobile ospite beh assolutamente io non ho necessità attenderò con pazienza attenderò anch'io l'attendente fa un inchino esce richiude la porta e vi lascia da soli nella stanza io faccio un mezzo sorrisetto ti guardo e ti dico ci stanno dicendo molto e raccontando poco io prendo il tè che c'è sul tavolo sorseggio delicatamente siccome è giusto che si debba fare se ci avessero convocato per gli stessi motivi avrebbero decisamente un pessimo gusto a proposito di gusto penso che quello e indico il tè non si adatti a una persona della sua levatura questo lo giudicherò io felice di saperti di gusti non così difficili ne ho conosciuti i nobili spocchiosi al tempo ah giusto quanti anni hai? è giovane direi sulla ventina quel giovane che ha ancora dei tratti non totalmente maturi io invece ho decisamente qualche anno più di te non sapresti dire quanti potrebbero essere 30 portati bene o 24 o 25 portati male ok facciamo una media di 27 esatto e quindi cosa ha portato con tanta grazia a migliorare l'armonia di questo luogo mi chiamo Riobbe Oda e sono il primo genito del clan Oda sono stato inviato e chiamato per poter dare consiglio al Damio e lei invece? mi chiamo Nonno Raino il cane randagio sono un Ronin senza padrone sono qui per scontrarmi contro il campion sono qui per duellare con il campione del Damio pare che fra un consiglio e l'altro gli piaccia un bello spettacolo quindi si diletta in dare spettacolo a chiunque lo possa pagare? io cerco un duello che valga la mia spada cerco un avversario migliore di me ciò che gli altri ne traggono è a far loro e nel momento in cui troverà il suo avversario? probabilmente sarò morto probabilmente sarò morto beh è una scelta di vita come un'altra con un Ronin la... non è necessario essere dedicati con le parole non ha nessun obbligo nei miei confronti forse io ne ho qualcuno verso i suoi e intanto stacchiamo di nuovo sul cancello del palazzo di Obusa perché si sta avvicinando l'ultimo ospite del Damio io arrivo bello a volto coperto quindi si vedono solo gli occhi e due anni... si vedono solo gli occhi arrivo e mostro immediatamente la targhetta a scanso di qualsiasi tipo di equilibrio anche perché qua prima ti spezzano le braccia esatto quindi mi presento alla guardia al cancello facendo vedere la targhetta senza dire niente la guardia vede la targhetta ti osserva, ti squadra dall'alto in basso si tiene la targhetta e ti dice ne abbiamo già visti molti come te la stanza è in fondo al corridoio vado non c'è nessun attendente a portarti beh... capisco ti fanno ovviamente lasciare le armi però almeno quelle visibili se hai altre armi che non sono visibili che vuoi provare a portarti dentro fai una prova di codardia o di slealtà allora io ho katana e wakizashi come tutti perché è obbligatorio poi lascio la kusarigama cioè la falce con la catena gliela mollo lì, shurinker me li porterei dentro fai una prova allora ti ripeto o di slealtà o di... vado di slealtà che ho 5 hai anche qualche specializzazione? nascondersi colpire alle spalle pronto soccorso direi di no nascondersi però si c'entra lo stesso ok allora questo è il tiro 5-3-8 e questo è niente hai tenuto gli shuriken nascosti e loro non hanno pensato di toccarti ovunque perché gli fa anche un po' schifo e quindi ti lasciano passare il corridoio davanti a te è impossibile sbagliare perché c'è un solo corridoio che porta dritto a una stanza e basta immaginavo, un fantastico curso e da dentro senti le voci di due persone ok c'è un ingresso diverso dalla porta? beh oddio tutte le porte sono di carta riso come Homer volevo semplicemente capire se potevo infilarmi sotto sopra da qualche parte invece di... no non sembra a meno che tu non esca però le guardie ti vedono di nuovo uscire e mi ricacciano dentro quindi è inutile adesso alzerebbe un polverone per cui niente con grande tranquillità e fermezza apro la porta li vedo dentro ci sono quello che chiaramente è un samurai e un ronin o un altro mercenario che si è trovato con una spada che non era la sua ok io faccio un mezzo sorriso da inginocchiato praticamente lo stinco della gamba sinistra gira sotto il culo e praticamente lo metto acciambellato e l'altra l'altra gamba invece la metto sollevando il ginocchio appoggio il gomito sul ginocchio ti guardo sorridi un attimo guardo di nuovo riobe e gli dico Odasana questo Daimyo si fa sempre più interessante mi giro e ti guardo e mi rigiro schifato non so se sentirmi a questo punto un po' scocciato dell'essere stato chiamato in mezzo a loro infatti io sorrido ma sarebbe un'offesa terrificante infatti io sorrido perché mi piace un sacco vedere il suo disagio non è che giudico male lui infatti ho fatto qualcosa di sbagliato è anche il motivo per cui mi sono messo scomposto cioè per fartela pesare questa cosa cioè per farti vedere che comunque io non sono della tua levatura ma poteva anche starci come fosse onorevole ma questo proprio vabbè tu mi vedi un po' in mezzo fra di voi e si vede che mi sto divertendo tu sei proprio in mezzo sui tre cuscini beh dipende dove era io penso che tu non ce l'abbia un cuscino non è arrivata la tendenza beh comunque noi non so dove hai disposto il tuo come ci siamo messi io ho inteso che se il tavolo è un rettangolo cioè come siamo messi noi tu ti sei messo qui dove siamo io e Gianni e io mi sono messo dove sei tu allora io mi sono sdraiato io mi sono inginocchiato a fronte alla porta d'ingresso in modo da poter non dare le spalle al daimio quando arriverà quindi io mi sono diretto in quella direzione lì quindi probabilmente quando sei entrato ti stavo dando le spalle quindi sono morto se avesse voluto uccidervi sareste già morti ok allora io faccio se non c'è nulla di apparecchiato io dopo aver assistito a questo simpatico scambio mi siedo accanto alla porta dopo qualche minuto che sei seduto se intanto vuoi guardare meglio la stanza vuoi capire se ci sono punti di fuga più che altro che punti di fuga voglio capire come è messa la luce dentro la stanza perché voglio capire se tutti illuminate in maniera uniforme quindi io con la mia MIS sono praticamente un moscerino nella neve cioè mi vedono a 7 km o se invece ci sono punti poco luminosi punti più luminosi perché cosa che non ho detto prima nel presentare il background io sono addestrato nella modifica del mio corpo ah quindi ho preso come poteri, clone e metamorfosi quindi sono capace di modificare il mio corpo nelle situazioni e sono capace anche di produrre un clone di me stesso nelle situazioni di reale emergenza quindi ho un tronco di legno che sembra esatto oppure ho qualcosa esatto che sembra il mio corpo per cui tendenzialmente come è strutturato l'ambiente mi interessa soprattutto dal punto di vista della luce e come dicevo prima c'è la parete da cui arriverà il daimio che è l'unica che non è illuminata tutto il resto essendo questo il primo pezzo del palazzo ed essendo la stanza dove vengono messi gli ospiti in attesa del daimio è illuminata da tre lati praticamente quindi è luminosissima e tu sai che questo viene fatto apposta proprio per persone come te cioè i daimio che più temono per la propria vita cercano di evitare qualsiasi tipo di angolo cieco, angolo buio dove uno shinobi, un assassino, un contadino che è riuscito ad arrivare troppo in là perché le guardie non si sono accorte possa nascondersi quindi c'è la stanza il daimio che entra cioè su un cuscino c'è un nobile samurai sull'altro cuscino è un ronio e sull'altro cuscino è un tronco con due ciabatte e lui è attaccato al soffitto posso fare una pustorinata? certo, di cosa? di slealtà per cosa? ok, l'ambiente è così benissimo io mi tolgo i miei indumenti li risvolto e dentro sono bianchi candidi bellissimo assolutamente quindi... cinque due set quindi io con grande nocialassa tu mi vedi mi denudo completamente tranne la mutanda perché quella tanto è già bianca ma tanto tra uomini non è comunque il nostro problema sono del forte disappunto esatto e quindi mi rimetto in bianco e poi mi appoggio il più possibile alla parete di carta di riso e quindi praticamente si vedono solo gli occhi tu non sei sicuro del perché sei stato chiamato qua? perché in genere la missione non ti viene detta prima ti viene detto da chi ha pagato al momento in cui arrivi questo anche per evitare che qualcuno lungo la strada rubi informazioni è la prassi dicevo dopo qualche minuto che ti sei cambiato ti sei rivestito hai trovato la tua posizione all'interno di questa stanza sentite la porta dietro di voi aprirsi di nuovo ed è l'attendente che è tornato ha portato dell'altro tè anche per il nostro il nostro shinobi e vi dice il daimio sarà qui tra poco il daimio è una persona estremamente onorevole e sicura di quello che vuole vi invito quindi a non rivolgervi a lui con domande troppo dirette perché l'impressione che ne darete sarà sicuramente di una scarsa comprensione di quello che vi sta succedendo se avete delle domande sarebbe meglio farle a me ora l'attendente è un maschio o una femmina? è un maschio io cosa so del daimio? a parte quello che mi hai già detto all'inizio che comunque ha un sacco di potere, è molto sicuro di sé, ostenta il potere allora per sapere qualcosa di più sul daimio puoi fare una prova di umiltà per capire quanto lontano dal daimio sei quindi qual è la sua effettiva fetta di potere oppure una prova di dovere per capire effettivamente la scala gerarchica che cosa rappresenta per lui e certo probabilmente farò una prova di dovere anche perché i doveri della mia casata erano i doveri verso il daimio di questa casata e io so che le manchevolezze di mio padre stavano inclinando i rapporti con il resto dei potenti dell'impero due lari provoca ai jutsu niente quindi fare una prova di dovere e via 2 più 5 è 7 quello che sai è che il daimio Kusanaga non accetta in nessun modo la mancanza di rispetto di chi sta sotto di lui nemmeno dei più vicini alla sua famiglia, nemmeno della sua stessa famiglia quindi i suoi due figli, i due gemelli che ha avuto dalla sua prima moglie sono l'esempio più lampante di quello che è il samurai di cui potresti leggere nei racconti che ti vengono letti quindi quando sei bambino per insegnarti cosa vuol dire essere un samurai certo, ok gli integerrimi non hanno mai mancato di rispetto al loro padre o a chi sta sopra di lui difendono il popolo dagli attacchi degli avversari e cercano di raddrizzare quello che secondo loro è un comportamento manchevole negli altri allora, io guardo l'attendente e le dico la vostra descrizione dell'onorevole daimio mi pare accurata quanto mi pare del tutto in linea con le storie che si narrano su di lui una persona di tale risolutezza saprà di certo come ottenere e procurarsi ciò che vuole e cosa c'è di meglio di procurarsi ciò che si desidera se non promettere a chi può fornirtelo ciò che più desidera io conosco poco i miei onorevoli compagni di stanza ma so che la promessa fatta dal daimio per portarmi qua è tutto ciò che posso desiderare quindi mi chiedo se c'è tutta questa differenza fra gli ospiti del daimio quali sono i motivi del daimio per non riceverli separatamente lui ti fa il sorriso più di circostanze che tu abbia mai visto nella tua vita di samurai F5 sorriso falso proprio quello di Zuckerberg quando era la Corte Suprema si inchina davanti a te e ti dice sono sicuro che tutto verrà rivelato nel momento più propizio caro Don Fabrizio supercazzola livello master questa è la risposta più chiara che mi potesse essere data è una cosa che non chiederò al daimio per non apparire stupido come mi è stato consigliato fino a quando non mi verrò detto un ultimo interrogativo e poi tutte le mie curiosità saranno esaurite avrò realmente l'opportunità di scontrarmi contro il vostro campione? anche questo credo che sia un dettaglio che verrà rivelato quando il mio padrone riterrà necessario farlo se riterrà necessario farlo io lo guardo negli occhi e gli dico onorevole ospite sono giunto qui e mi hai trattato con tutte le cortesie e di questo ti sono grato ma purtroppo a un canerandaggio non interessano le cortesie sono troppo indurito per per tollerare una carezza un canerandaggio ha bisogno di una preda in cui affondare i denti e io so che un gesto irrispettoso potrebbe portare la mia testa a essere tagliata e appesa su una picca ma questo come non gioverebbe a me non gioverebbe neanche a voi al motivo per cui mi avete portato qui e la mia vita è sostituibile innanzitutto per me quindi rimango inginocchiato e attendo di sapere di più conscio del fatto che potrò avere uno scontro onorevole o mi alzo e me ne vado prima che il daimio si presenti e accetto le conseguenze delle mie azioni fai una prova di crudeltà o di superbia per imporre la tua volontà su di lui e farti dire qualche cosa di più crudeltà e utilizzo provocare beh sì direi che ci sta doppio uno bumble inizia a segnarti ah beh no li devo usare subito se tu hai uno di disonore esatto eh quindi non quindi non serve niente non serve segnare nulla che figura di merda è andata come doveva andare perché esattamente mentre dici questa cosa perfetto entra lo zio si apre la porta il daimio è davanti alla porta bene e tu senti proprio tutto il suo rispezzo e discusso e giudizio su di te quindi segnati un danno alla tua tenacia perfetto perché per quanto tu faccia lo sborone con l'attendente certo dire questa cosa davanti al daimio non è la stessa cosa io rido sotto la mascherina cioè proprio faccio uno di quei sorrisoni e la seconda cosa è che senti che oltre al daimio vabbè ci sono anche c'è la moglie che sta entrando con il daimio e quello che sembra essere un monaco che probabilmente è il suo consigliere ma soprattutto la stanza viene sostanzialmente circondata di guardie che vi tagliano qualsiasi possibilità di uscita il tuo orecchio molto allenato a sentire le cose più che vederle ti dice che sono 24 guardie che circondano la stanza il daimio vuole essere sicuro che voi non ve ne andiate da qua se non lo vuole lui evidentemente e l'attendente fa un inchino e si sposta lontano da voi vicino al daimio in fade da 100% a 0% e diventa trasparente esatto il daimio vi fissa aspetta che la moglie si sia seduta e poi si siede di fronte a voi dall'altro lato della stanza è un uomo sulla sessantina dall'aspetto arcigno molto nobile e il si sta tenendo però comunque il suo seggio è stato messo in un punto che sia abbastanza lontano da voi anche se aveste un'arma nascosta comunque ci metterete qualche passo prima di arrivare a lui e non sarete così avvantaggiati nel cercare di ucciderlo nel caso sbarregliate completamente le guardie non entrano nella stanza rimangono fuori voi ne vedete solo la sagoma attraverso la parete di carta di riso e una volta che si è seduto il daimio vi guarda e vi dice ho invitato questi ospiti e ci tiene a non dire nobili e tu lo sai ho del disappunto però non lo mostro lo tengo per me ho invitato questi ospiti al castello di Obusa quest'oggi per giudicare le loro colpe e decidere se possono andare via con la propria vita da questo palazzo o se questo è l'ultimo giorno della loro vita non puoi dire non deve nulla sono penso di come dire se ero in posizione tendenzialmente inclinata per di rispetto penso di alzarmi e di guardarla come per dire what the fuck è? esatto cosa sta dicendo? io invece sono tranquillo il primo a parlare sarà colui che non ha ancora detto il suo nome ai suoi compagni di stanza Anamichi Sakuragi si mio signor tu sai fuori una festa ne ho scioglato in paese c'è il festival dei fuochi d'artificio in questo preciso momento è giusto tu sai perché sei stato invitato a palazzo le azioni del vostro clan sono necessarie ma a un certo punto anche voi scegliete le vittime sbagliate in particolare tu ti sei macchiato dell'omicidio di una persona ma è cara e non posso quindi chiudere un ulteriore occhio sulle azioni che avete fatto in questa regione fino ad oggi hai qualcosa da dire a tua discolpa? si che il mio clan non sceglie esegue queste sono le parole di qualcuno che pur essendo ligio al proprio dovere ha dimenticato che cosa significa essere un samurai tu non sei nemmeno un nobile e di questo non te ne faccio colpa ma proprio perché tu non sei un nobile sarai l'esempio perché quelli migliori di te raddrizzino le proprie strade se questo è il suo volere io non posso andargli contro apprezzo apprezzo questa tua qualità sakuragi sappi che è con sommo dispiacere che mi appresto a fare ciò che sta per essere fatto prima però vorrei chiedere a dayama akagi la verità su perché ha deciso di abbandonare la propria famiglia e la propria il proprio dovere come capo del clan il daimio akagi getta disonore sulla nostra casata io non posso sostituirmi a lui senza aver percorso la via e trovato la mia strada e la mia strada non può essere insieme alla famiglia akagi un samurai si riconosce per le sue azioni e per la sua capacità di percorrere la via tutti gli onori che derivano dalla vita e gli agi che derivano dalla vita del samurai sono un vezzo che mi pesava sulla schiena come un macigno e di conseguenza ho scelto di diventare un cane randaggio perché soltanto un cane può di essere realmente nobile se riesce a trovare la sua strada nonostante i calci gli sputi e gli spergiuri quindi pensi di essere più nobile di tuo padre avendo scelto la strada non nobiliare pensi che la tua scelta di agire prima di pensare e che le azioni di un samurai descrivano la propria vita sia più vicina agli insegnamenti del Bushido di quello che ha deciso tuo padre per la vostra famiglia conosco me stesso Takayaki Sama onorevole ospite so di non essere pronto ma so anche che senza allontanarmi da mio padre non lo sarei stato mai anche questo verrà giudicato tra poco sappi però che chi rinuncia al proprio nome al proprio dovere ha rinunciato a essere un samurai e come tale verrai giudicato non come chi impugna la spada ma come chi impugna la spada per se stesso e veniamo infine al giovane rampollo della famiglia Oda io faccio un inchino qualsiasi siano le colpe del mio clan le colpe non sono del tuo clan le colpe sono tue in che modo avrei macchiato l'onore del mio signore qual è il tuo nome? Riobbe Oda ho chiesto qual è il tuo nome ovviamente si abbassa la testa Reiko Oda mio signore la sorella di Riobbe Oda lasciatemi spiegare il motivo per cui sono qui per giudicare ascoltiamo il motivo di questa scelta scellerata Dovevo cercare di mantenere alto l'onore della mia famiglia mio signore ed è questo il motivo per cui ho preso il posto di mio fratello e hai pensato che mentire e fingerti una persona che ha dato la propria vita per difendere l'onore della tua famiglia fosse la scelta più saggia questo dice molto anche su tuo padre che ha permesso questa cosa e anche lui verrà giudicato sono sicuro la mia vita stessa è per il mio clan e per la mia famiglia e così anche per mio fratello quindi sono degna altrettanto di essere portatrice del nome di mio fratello e della mia famiglia avresti dovuto essere degna di portare il tuo nome non quello di tuo fratello che è stato così debole da morire sotto la spada del suo avversario dando la propria vita nel farlo e ripristinando comunque l'onore della vostra famiglia tu hai macchiato l'onore della tua famiglia portando poco rispetto alla vita che tuo fratello ha dato per voi io amavo mio fratello e non potevo permettere che il suo onore fosse macchiato indevebilmente spero che questo possa mitigare la mia colpa al suo giudizio lui si gira verso il monaco che gli fa da consigliere si guardano in silenzio per un attimo poi si rigira verso di voi vedete che la moglie si sta già alzando in piedi perché ha capito che il marito ha deciso cosa ne sarà di voi e sta per dirvelo e nel momento in cui il daimio si alza dal proprio seggio vedete le guardie fuori dalla parete di carta di riso che sfoderano le proprie catane uccidono la guardia alla propria destra mentre una freccia perfora la parete di riso e la gola della moglie del daimio e una seconda freccia perfora l'altra parete di carta di riso perfora la gola del monaco me coglioni e una lama insanguinata sbuca dal petto del daimio da dietro le guardie fuori sono morte senza quasi fare rumore perché non si aspettavano che i propri compagni le uccidessero mentre facevano la guardia al daimio la moglie e il monaco sono morti con una freccia nel collo e non hanno avuto modo di urlare per avvisare chiunque fosse fuori e il daimio vedete che è colto da un'espressione di sorpresa e impreparatezza mentre cade per terra e alle sue spalle rimane l'attendente con il pugnale il wakizashi insanguinato non sapevo che era stronzo l'attendente l'avevo puntato pensavo fosse il daimio addirittura che ci stava percolando no il daimio era il daimio ed è morto davanti a voi non piangerò io credo di io invece bramavo di essere giudicato ero arrivato quasi alla fine della mia strada puttana miseria ladra io guardo con la coda dell'occhio io mi alzo quello che è diciamo il sospettato numero uno esatto lui il ninja no invece io mi alzo io ti faccio cenno come dire mi piacerebbe ma no io mi alzo tranquillo con un mezzo sorriso stampato in faccia e dico all'attendente noi non siamo morti e abbiamo visto tutto di nuovo la mia vita pare non essere sostituibile vedi che l'attendente sta tremando non era pronto a fare quello che ha fatto è probabilmente stato costretto da qualcuno infila una mano tremolante nella manica del kimono e tira fuori una pergamena la lunga verso di voi ok io mentre lui sta spilando ancora faccio scivolare fuori due shuriken dalle maniche e mi metto in posizione di lancio perché se succede qualcosa voglio partire ignorante io cammino tranquillamente verso di lui e prendo la pergamena c'è qualche sigillo si lo shogun è proprio stronzo si assolutamente va bene ha il sigillo dello shogun e la firma è quella di Tokugawa in persona quindi proprio il suo sigillo stampato alla fine e dice nobili ospiti del Daimyo Kusanaga vi forgo i miei più umili omaggi noi siamo diventati nobili quando gli fa comodo certo figurati perdonate la situazione che sicuramente poco si confà alle vostre nobili origini ma purtroppo avevo bisogno della vostra più assoluta attenzione e cooperazione ho fatto in modo che il Daimyo sapesse di voi e di quello che avete commesso proprio perché vi convocasse alla sua corte come massima autorità suggerendo anche di tenervi all'oscuro del motivo per cui vi aveva convocati gli uomini sanno essere veramente stupidi quando a suggerire qualcosa è una bella ragazza e il Daimyo non era un uomo da meno purtroppo per voi questo significa ora che avete due strade davanti a voi potete uccidere il mio attendente, le mie guardie e non ho dubbi che potreste farcela unendo le vostre forze ma farlo non farà che peggiorare la vostra situazione i figli del Daimyo cercheranno infatti vendetta sapevano della vostra presenza a palazzo e sapevano che il loro nobile padre vi avrebbe convocato per emettere una sentenza su di voi mi sono assicurato personalmente che loro ne fossero al corrente e che al tempo stesso fossero richiesti altrove proprio in questo infausto giorno se uccidete tutti i presenti in questa stanza penseranno sicuramente che i colpevoli siano i presunti criminali che si trovavano qui dentro la seconda strada è ascoltare le mie richieste e obbedire a tre dei miei desideri fino a quando agirete in accordo alle mie richieste mi assicurerò che i figli del Daimyo rimangano all'oscuro di quanto avvenuto a palazzo oggi e una volta completati i tre compiti che vi chiederò di svolgere mi assicurerò che i vostri nomi siano liberi da ogni colpa e che i figli del Daimyo ottengano la loro vendetta consegnando loro i veri, tra virgolette, responsabili io ho preso la pergamena, vero? sì se accettate riceverete istruzioni dal mio maestro dei sussurri che si occuperà anche di mettere in quarantena il palazzo per nascondere il più lungo possibile la morte del Daimyo firmato Tokugawa questo però è super disonorevole oh beh sì assolutamente però non lo sai no? eh? funziona così l'onore è onore finché qualcuno non ti becca eh, non per me beh, per me è una missione ma io non ho letto la pergamena ad altavoce ah ok allora non so ancora un quando non so ancora un tubo io è una one shot vi guardo e vi dico pare ci vogliono fare la pelle cerco di prendere i wakizashi dalla mano dell'attendente e Firae gliela nella gola fai una prova di crudeltà come crudeltà? ok non sono d'accordo ma come no? sì no, ha tradito il suo Daimyo è una cosa completamente disonorevole sì, ma non gli stai dando la possibilità di recuperare il proprio onore quindi è crudeltà purtroppo è ci può stare ci può stare ci può stare ehm Iaijutsu duellare sicuramente no eeeh eh però ti devi Claudio Bustorino uno e due bene, non ci sono riuscito va bene non solo beccati un punto disonore e due punti disonore no basta quindi superirà esatto quindi cosa mi succede? che cazzo ti scivola posso cambiare i dadi? cambia i dadi ce ne sono altri non è un problema sono tutti uguali sono i dadoni tutti no, sono tutti i dadoni tanto e allora vuoi fare i cambiamenti miei? ti avventi ti avventi verso verso l'attendente che vedi che si stava già togliendo la vita ah proprio ragazzo no cazzo se l'avessi visto non l'avrei fatto ecco qua il disonore va bene si stava già togliendo la vita proprio perché sa che cosa ha fatto e che cosa è stato costretto a fare ma la cosa peggiore è che la pergamena si sta sciogliendo e la parte in cui è firmato con il sigillo è già andata distrutta ovviamente quindi rimane una pergamena che non è anonima completamente non è una prova e comunque si sta distruggendo anche il resto della pergamena ma che bello d'accordo beh io il mio turno l'ho fatto quindi la pergamena l'hai detto assoluto non hai detto niente io vi ho detto ho detto pare che ci vogliano morti cosa c'era scritto nella pergamena? diciamo che nell'azione io mi sono appena voltato e ho cercato di uccidere l'attendente quindi sono un po' concitato io mi fiondo sulla pergamena e cerco di leggere velocissimamente il contenuto allora fai una prova di slealtà perché sei abituato a maneggiare questo genere di sostanze che distruggono le prove e quindi potresti essere in grado di guarda uso metamorfosi ok in modo da essere più veloce allungando il mio braccio ok e quindi che schifo acchiappando la prima ed è subito ninja scroll esatto ovviamente 527 e 4 con ok 4 niente però riesci a leggere quasi tutto quello che c'era scritto nella pergamena e in più ti rendi anche conto che le guardie sanno perfettamente che cosa è successo e stanno sentendo tutto perché le veriti sono di carta di riso quindi è impossibile tenere nascosto qualche cosa ma non si stanno muovendo quindi forse hanno l'ordine semplicemente di tenervi qui finché o voi non provate a scappare o non arriva questo maestro dei sussurri di cui parla la pergamena ok diciamo che la realtà è un po' diversa da quello che il nostro amico ci sta raccontando c'è una scelta sul piatto e io la mia l'ho già fatta io cosa significa la scelta? bene fatelo raccontare dal nostro onorevole amico abbandonarsi completamente al disonore e fare e diventare i cani da compagnia dello shogun se vuoi obbedire se vuoi realmente fare una scelta onorevole questo è il momento in cui diventi un reietto anzi una reietta se vuoi obbedire a Tokugawa la via che puoi percorrere è quella comoda del nostro amico qui d'altra parte lui è abituato a fare l'animale da compagnia e come pensi di uscire da questa stanza? le conto sono esattamente la metà di prima sono 12 guardie 12 sei a testa ci sono delle armi nella stanza? c'è il coltello con cui si è ucciso l'attendente che è una wakizashi praticamente le frecce che possiate c'è la spada del daimyo che comunque se l'è tenuta e basta certo quindi volendo una spada di qualche tipo a testa c'è lui ha dimostrato degli usciuri che ha nascosti sotto quindi cazzi suoi beh c'è anche a dire che nel momento in cui dovessimo attaccare le guardie anche lui sarebbe nel ritenuto forse nemico non penso che il nostro compagno abbia interesse nel mettere a repentaglio la sua vita per fermarci d'altra parte anche se ci riuscissimo lui rimarrebbe l'eroe intendo nemico per le guardie se cerchiamo di uscire non sapete come reagiranno alle guardie perché magari hanno l'ordine di farvi uscire o tutti o nessuno questo non lo sa nessuno di voi questo è interamente un suo problema sentite la vostra vita non mi interessa solo che vi invito a... io oggi ho ascoltato delle cose su di voi quanto credete ci metterà Tokugawa dopo aver messo in scacco il feudo più forte e potente nel luogo più forte e potente del nostro impero ad arrivare sui vostri clan e a distruggerli rendendo vano tutto quello che avete fatto fino adesso e non fate finta di essere liberi perché non lo siete dai doveri quindi forse sarebbe il caso che vi svegliaste un po' e che prendi e che prendeste l'unica via che vi consente forse di poter pensare di esserlo ancora liberi senza mettere a repentaglio i vostri e adesso scegliete velocemente perché altrettanto velocemente o dovrete combattere o dovremmo andarci non posso andarmene macchiando l'onore della mia famiglia se dovessimo morire in questo posto ma chi lo dice chi lo dice chi può saperlo delle voci che verranno diffuse saremmo intenuti complici o autori di questo crimine quindi come sempre la facciata è più importante del nocciolo com'è che si chiamavano? la facciata è il Ume e bella domanda lo potrei aggiungere al glossare di Monogatari sarebbe interessante perché ci ho messo il Giri e il Ninjō ma questo non l'ho messo ti sembra davvero un problema di facciata? a me sembra un problema di sostanza tuo fratello vivo stai con Tokugawa tuo fratello morto il tuo clan distrutto e quindi il desiderio di tuo padre ti metti a duellare contro tutte le guardie un cane randagio questo lo può sopportare vedo che il cane randagio è intelligente quindi scegliete di aspettare l'uomo dello Shogun si si madonna santa l'hai detto t'ammato non puoi farmi cominciare un'avventura del genere e invece l'ho proprio fatto va bene aspetto ok vi risedete ad aspettare tanto non c'è nulla da fare e dopo una decina di minuti la porta da cui era arrivato il daimio si apre di nuovo entrano una giovane ragazza una shinobi a giudicare dai vestiti che senza dire una parola si inginocchia davanti a voi si prostra come si fa normalmente come fareste voi davanti a un daimio per dire e vi dice il mio nome è Takano Sawa sono il maestro dei sussurri dello Shogun Tokugawa se siete qui e non avete ucciso le nostre guardie vuol dire che avete letto la pergamena del mio signore e che avete accettato la sua proposta questo è quello che richiede il mio signore da parte vostra ci sono tre persone nella prefettura di Obusa che ostacolano l'avanzata dello Shogun ma che lui non può eliminare personalmente per evitare sospetti se eliminate queste tre persone portando alle prove che il fatto è stato compiuto lo Shogun offrirà un perdono imperiale a ciascuno di voi questo cancellerà tutte le vostre colpe e vi renderà immuni alla vendetta dei fratelli Kusanaga in più avrete la possibilità di diventare abbassalli dello Shogun con gli onori e gli oneri che ne conseguiranno ok rifiutate e le guardie qua fuori faranno quello che è stato chiesto loro di fare se dovessimo fallire in queste missioni il nostro nome sarà comunque risanato? se doveste morire mentre lavorate per lo Shogun sono sicuro sicura che il vostro nome non verrà ulteriormente infangato non dovete temere per le vostre famiglie se è questo che vi sta preoccupando in questo momento accetto questa missione i nomi di queste persone? la prima si chiama Kamachiyami è una sacerdotessa del tempio di Moriyama lo Shogun crede che nel suo cercare di entrare in contatto con i Kami sia entrata in contatto con qualcosa di molto meno positivo la seconda è Akatsuki una geisha che lo Shogun sospetta sia in realtà una shinobi fedele a un altro daimyo ma che ha patroni troppo potenti per essere fatta sparire senza che nessuno si lamenti e la terza è Fukada Kojiro un Ronin che è stato assunto da Wakisaka Shinichi per difendere la propria vita proprio dallo Shogun e che ha fama di essere uno degli spadaccini più leggendari dell'intero impero finalmente una buona notizia questi luoghi si trovano tutti a pochi giorni di viaggio da Obusa e lo Shogun è stato così gentile da chiedermi di fornirvi dei cavalli per velocizzare il vostro viaggio lo Shogun non manca di teatralità lo Shogun sa come possono essere convinte le persone a fare quello che chiede mi ricorda qualcuno se avete altre domande è il momento di farlo sappiate che qualcuno vi terrà d'occhio da lontano esco dalla stanza le guardie ci sono ancora le guardie sono tutte lì ti tengono d'occhio vedi che hanno le mani sull'elsa della katana ma che hanno evidentemente ricevuto l'ordine di lasciarvi andare se non ricevevano direttive diverse dal maestro dei sospiri ok anch'io io torno all'ingresso a prendere la mia roba e mi preparo per partire stessa cosa va bene no io mentre esco è molto difficile questa cosa scrivere non è la cosa più semplice del mondo in questo momento allora so di non lo so un kanji molto sintetico un simbolo o magari non lo so anche una tradizione di famiglia della famiglia Takayaki che potrebbe significare qualcosa la famiglia Kusanaga però si va bene Kusanaga perdonami Takayaki il nome? si quindi prima l'ho chiamato per nome il daio si fai come se non avessi fatto esatto avevo intuito come non detto li ho di solito ma scusa il nome di famiglia non arriva dopo? no no prima siete voi che le avete detti tutti al contrario io pure ho fatto finta di nulla questa è un'informazione preziosissima perdonate la gaff la famiglia Kusanaga che potrebbe portare i fratelli della i figli del daino a a sospettare che sotto c'è più di quello che appare una missione di colpa proprio un kanji anche scarabocchiato male o inciso su un pezzo di legno con scritto con scritto appunto colpevole innocente fai una prova di sincerità ma con lo svantaggio perché innanzitutto la famiglia Kusanaga non la conosci così bene da essere in intimità con i figli e sapere che cosa potrebbero pensare e soprattutto la pergamena e tutto il resto sono andati no non solo vi dicevano anche che se voi accettavate il palazzo veniva messo in quarantena quindi come se ci fosse la peste dentro quindi quando i figli del daino arriveranno non è detto che riescano ad entrare al palazzo però io adesso la prova la sto facendo per sapere se c'è qualcosa che loro potrebbero capire poi magari la faccio avere in un secondo in un caso allora ci provo ricordati che puoi fare la prova o usare un filo di testino in realtà io preferisco fare la prova e usare eventualmente il filo dopo per assicurarmi che il messaggio vi raggiunga esatto allora 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 si infatti i figli li vedo dopo con svantaggio sincerità io adesso ho tirato 1 1 2 1 1 2 2 1 lo svantaggio non fa una gran differenza esatto ho tirato 6 e 3 ce l'ho fatta ce l'hai fatta lo stesso però non hai preso punti onore no purtroppo no ho fatto 8 comunque la prossima volta che fai 1 1 ti ricordo che puoi sempre tirare la difesa però devi avere dei punti onore per farlo quindi inizia a fare delle prove che ti danno punti onore se no fantastico non se ne esce più sì un messaggio che tu gli possa far avere che potrebbe passare inosservato agli occhi di chiunque altro ti viene in mente il titolo di una vecchia piava che sapevo essere raccontata a tutte le persone a tutti coloro che sono cioè che fanno un addestramento da samurai e che appunto parla della doppiezza della vita di corte ok e che riguarda un cane randaggio ok cioè riguarda in cui compare anche un cane randaggio se loro saranno sufficientemente furbi riusciranno a fare 2 più 2 ok perfetto d'accordo allora allora per adesso mi basta così cioè so come fagli ad arrivare un messaggio o meglio so che messaggio potrebbe essere utile per permettergli di capire per adesso ancora non ho modo di inviarglielo quindi prendo le mie armi esco allora quando uscite dalla stanza e vi avviate verso l'uscita proprio dove avete lasciato le armi dove vi danno i cavalli vedete che le guardie che sono evidentemente quelle fedeli allo shogun sono quasi solamente quelle che erano lì intorno il resto del palazzo in questo momento è in subbuglio e gli attendenti serbi iniziano ad avere tutti la mascherina perché evidentemente si sta già diffondendo la notizia che c'è una malattia il dai mi è stato male dobbiamo chiudere il palazzo non fate entrare nessuno in gamba questo non fate entrare nessuno ma potete far uscire che l'importante è non portare la malattia dentro ma portarla fuori in questo momento per loro non è un grosso problema quindi il palazzo è abbastanza in subbuglio nessuno vi sta prestando troppa attenzione le due guardie all'ingresso vedono che state uscendo vi aprono il cancello vi fanno cenno di muovervi e di andare velocemente e quando richiudono il cancello dietro di voi sentite proprio che non è solo appoggiato proprio chiuso rimesso in sicurezza il mega palo di legno dietro il portone rientrare qua dentro sarà presso che è impossibile a meno che qualcuno non vi apra il portone o se arrivate con un esercito ok quindi l'unico modo che avete di tornare qui dentro se ci volete tornare per qualsiasi motivo è con le prove che avete ucciso le persone ok la ragazza dello shogun la shinobi vi ha comunque anche lasciato un piccolo fogliettino di carta con il nome di un villaggio dove recarvi quando avrete fatto colore ok d'accordo il fatto che il palazzo sia in subbuglio anche le strade di obusa in questo momento iniziano a essere agitate e animate perché se hanno chiuso le porte del palazzo sta succedendo qualcosa quindi la gente inizia a chiudersi in casa a cercare i figli e tornare di corsa dalla sala da te eccetera 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 ecco a proposito di sala da te è proprio lì che mi voglio recare io dico gli altri due ci incontriamo in qualche ora fuori dal villaggio io ho delle cose che mi aspettano alla sala da te qual è il primo indirizzo dove vogliamo andare a colpire? da dove siete adesso? sono in ordine? no sono quasi equidistanti da dove siete adesso sono a raggio intorno a obusa quindi scegliere quale è il primo è quasi irrilevante il tempio è a due giorni di cavallo Kavakumi che è la città portuale dove sta la geisha è a un giorno e mezzo mentre l'altra città dove sta Kojiro è anche quella due giorni ok allora dipende dalla minaccia con cui vogliamo avere a che fare il migliore spazzacino del mondo non sarà pericoloso quanto uno yukai appunto quindi andrei lì è egoismo strategia quello che ti muove cosa stradiamine te ne importa? non voglio morire per il tuo egoismo penso che tu non voglia morire appunto e basta dipende le tre minacce le dobbiamo affrontare comunque tutte e tre sono d'accordo per andare dal Ronin va bene siete in due ricordatevi che se volete raccogliere informazioni avete tempo e modo per farlo non vi hanno dato un limite di tempo in cui uccidere queste spie quindi avete anche tempo per programmare che cosa sta per succedere infatti vado a rilassarmi alla strada a te ti vai proprio rilassare? questo è quello che vi dico io vado a cercare informatori ai soliti della rete degli shinobi e io a questo punto penso che inizierò ad avviarmi sulla strada ci troveremo alla città, al paese dove ok anche perchè magari qualche informazione la trovi più lì fuori esatto allora partiamo da quello facile che è il nostro shinobi e quindi tu vai a raccogliere le informazioni dai soliti che ti possono dare informazioni due e tre ai personaggi ok allora fai una prova o di slealtà o anche di dovere potrebbe avere senso perchè comunque è la tua missione tu sei fedele alla missione qualsiasi cosa tu faccia vado di slealtà sette punti onore? non ne ho non ne ha dado della specializzazione non serve no beh allora trovi informazioni più che altro su roni da cui state andando e sulla città da cui, verso cui dovete andare si chiama? Kojiro? Fukada io non riesco a leggere la mia scrittura ok allora il nobile che ha pagato Kojiro per fare da guardia del corpo era un vassallo del Daimyo che è morto poco fa e un membro della corte imperiale la sua posizione a corte è stata compromessa quando ha mancato di rispetto in maniera troppo plateale allo shogun vulcano in presenza dell'imperatore stesso un genio totale proprio e il Ronin che è adesso al servizio di Wakisaka era appunto uno spadaccino conosciuto in tutto l'impero che ha rifiutato di sposare la figlia di un Daimyo o di un'altra prefettura costringendo il suo padrone a rinnegarlo ognuno ha i suoi talenti dai ok questo è quello che riesci a raccogliere tra i tuoi informatori che sono evidentemente poco preparati su un nobile in declino che non interessa più a nessuno allora quello che faccio io invece è andare alla sala da te con una con due con una doppia intenzione la prima è quella di raccogliere qualche informazione su come combatte questa persona e cerco di raccogliere questa informazione pagando da bere offrendo sake ai samurai che sono lì a rilassarsi e a perdere del tempo perché io so che un samurai soprattutto se è un Ronin non ti caga di pezza ma se gli offri da bere magari parla e chi meglio di un samurai per sapere magari qualcosa sullo stile di combattimento di questa persona secondariamente nel tempo che passo lì io voglio trovare la persona più indicata magari una geisha o magari la sorella maggiore di questa sala da te per e su questo spenderò un filo del destino sì farle capire che per eliminare questa piaga che sta minacciando il paese è assolutamente importante che ai due figli del daimio arrivi voce di questa fiaba e loro capiranno ok per fare questa cosa appunto spendo un filo se poi adesso la vogliamo interpretare va benissimo e prendo uno dei tanti perché da adesso in poi dato che lui mi ha detto come si dice si cioè chiina la testa e agisce nella maniera più pratica possibile da adesso in poi io per le forze del daimio voglio essere davvero uno dei tanti uno comunque quando consumi un filo ti ricordo anche che è come se tu avessi tutti i punti onore che potresti avere che devi spendere subito benissimo quindi se vuoi li puoi spendere anche per ottenere informazioni fantastico un punto un'informazione prima di tutto appunto cosa rende questo spadaccino così tanto famigerato? il fatto che non abbia mai perso un duello di spada e ad oggi ne ha vinti trenta due cosa contraddistingue il modo in cui combatte? più che non lo so c'è più della sua tecnica di di yaido o di kendo a me interessa sapere come si approccia al combattimento in realtà è una persona estremamente superba cosa che probabilmente ha contribuito al suo perdere il favore del daimio a causa di un fattaccio di amore perché lui non si informa mai sul proprio avversario lui sa che la sua tecnica di spada è superiore e questo gli basta quindi arriva sapendo già di avere vinto questa sua sicurezza trassuda così tanto che anche degli spadaccini che hanno una tecnica in realtà migliore della sua perdono perché si sentono in differenza rispetto a lui manchevoli di qualche cosa non è uno spadaccino tecnicamente perfetto è uno spadaccino però che è tutt'uno con la sua spada certo è del tutto sicuro di sé terzo punto onore cosa pensano i samurai con cui parlo del conflitto fra lo shogun e il daimio? allora scusa la rettura di coglioni ho già segnato anche quello tu pensi di cogliermi il preparato ma invece no allora il popolo della prefettura, samurai compresi quelli che non sono legati direttamente alla famiglia del daimio è per lo più disinteressato alle sorti del daimio della battaglia tra lo shogun e il daimio perché da un lato sono entrambe delle figure imperiali che sono praticamente allo stesso livello su due fronti diversi quindi scegliere da che parte stare è puramente una questione di a chi è legata la mia famiglia non c'è una scelta personale di logica di crescita della propria famiglia e in più in questo momento essere un samurai di rango basso che si trova coinvolto nel conflitto tra daimio shogun è anche la possibilità di far vedere che sei un ottimo spadaccino un ottimo stratega, un ottimo arciere far vedere le tue qualità che altrimenti resterebbero nascoste in un periodo di pace come è già successo altre volte in passato quindi in realtà quelli che non sono disinteressati sono interessati solo al fatto che ci sarà una guerra non importa da che parte perché io avrò modo di dimostrare la mia bravura in questa cosa e portare onora alla mia famiglia perché io sono quello molto bravo a fare anche dovessimo perdere se io sono quello bravo gli ultimi due punti li utilizzo uno per assicurarmi che la sorella maggiore sappia essere discreta e la seconda cosa è per assicurarmi che lei non ci finisca di mezzo per motivi che non ci entrano con lei quindi so che mi stanno tenendo gli occhi addosso di conseguenza mi interesso del fatto che ciò che le dico sia sufficientemente sottile da essere inteso da lei senza metterla in pericolo ok, basta Perfetto Reiko invece è partita per tempo e si è portata verso verso Kengawa Ok Kengawa era un tempo la terza città più importante di tutta la prefettura ma dopo che il capofamiglia del clan Wakisaka che domina la città ha offeso lo shogun di fronte all'imperatore il Daimon l'ha bandito, ha bandito il clan dalla corte Wakisaka Shinichi non può più allontanarsi dal suo palazzo senza temere per la propria incolumità perché gli uomini delle shogun vogliono fare quello perché ha mancato di rispetto allo shogun il Daimon lo vuole far fuori ma non può perché ha portato ha mancato di rispetto al suo avversario mettendo in cattiva luce lui quindi tutti lo vogliono morto e lui non si allontana più da casa è diventato estremamente paranoico e il risultato di tutto questo è che Kengawa adesso è una città in declino abbandonata dal proprio signore in cui la yakuza spadroneggia e fa quello che vuole perché lui è troppo preoccupato a difendere la propria vita per preoccuparsi anche della vita di chi vive in città ha comprato il servizio di questo Fukada Kojiro proprio perché sa che è uno spadaccino imbattibile e quindi l'ha preso come guardia del corpo perché è estremamente paranoico ma allora quando arrivo in città io vado in uno di quei locali dove generalmente si trova per bere ok entro qui dentro lì dentro ed è un po' diverso da quello che hai avuto modo di vedere durante i tuoi viaggi recenti perché appunto qua è la yakuza che spadroneggia c'è gente che gioca ad azzardo nelle locande cosa che è completamente impensabile in qualsiasi altra città dell'impero perché arrivano le guardie ti mettono in galera e buttano la chiave se non t'hanno ucciso sul posto mentre qua giocano ad azzardo c'è gente che beve prostitute che non sono geisce che anche quello lo puoi fare però chiuso nella tua stanzetta invece qua è plateale in mezzo alla sala principale è una delle peggiori città dove tu sia mai stata e che potresti immaginare nella tua fervida mente è il valley quando un bifo si affetta esatto praticamente sì scusate una digressione è sempre bello e quindi nessuno paga nemmeno dell'attenzione al fatto che tu sia entrata o entrato bene sei ancora in giro come Riobbe o come Reco? quindi nessuno presta attenzione al fatto che sei entrato speriamo che nessuno mi voglia nel locale esatto quella è la cosa più probabile sei un ragazzo troppo bello ad escare potrebbe anche essere mio vantaggio in questo caso molto disonorevole ma a mio vantaggio mi siedo e ordino del sake la ragazza che ti porta da bere ti mette il bicchiere davanti poi ti si siede praticamente in braccio mettendoti un braccio intorno e si qua sono veramente proprio super fiondati sei un bel ragazzo hai evidentemente un sacco di soldi per come sei vestito sì soldi ne ho questo si è evidente il baroceano rubiamo praticamente esatto champagne per brindare un incontro versa due bicchieri di sacchette e ne offre uno lei intanto beve senza nemmeno aspettarti e ti dice non ti ho mai vista da queste parti e perché sono in viaggio e bevo anche un sorso in realtà sono di passaggio perché beh questa città non ha una buona nomea ma ha delle cose molto interessanti e ti accarezza il viso tolgo cioè a mano in faccia anche no a mano in faccia spu beh sembra che che qui ci si lasci molto andare a sessioni poco onorevoli cos'è l'onore? è una cosa da samurai difatti i samurai sono finiti guarda questa città un tempo era una delle città più importanti e poi appena un samurai ha detto la cosa sbagliata tutta la città è caduta insieme a lui ora facciamo quello che vogliamo è meglio si e infatti questo samurai si è dovuto nascondere per da quale codardo è protetto da un ronin tra le altre cose beh perché nessun altro aveva il coraggio di opporsi né al daimo né allo shogun tu sei venuto qua per difendere il signore di questa città? no assolutamente no esattamente quindi? però sono sono venuto per cercare informazioni su io ho tutte le informazioni che vuoi e una stanza al pieno di sopra e che genere di questo anno le tue informazioni? stanno parlando delle stesse informazioni non nessuno ho due informazioni ho due informazioni qui se vuoi eeeh fai una prova di dovere perché stai veramente cercando di impegnare tutta te stessa per mandare giù questa ma noi nel frattempo dove siamo mentre questo avviene? poi siete rimasti indietro e lei è partita quindi quindi stiamo andando probabilmente stiamo viaggiando assieme verso il villaggio ok va bene di dovere ho fatto 9 in totale quando lei ti dice che ti costerà due rio quanti sono due rio? sono tanti soldi perché hai visto come sei vestito? hai visto la katana? hai visto il cavallo? mica il cavallo ah già il cavallo per te due rio è oro se non ricordo male infatti due rio sono tantissimo per chiunque per te sono una somma che si è importante però è un po' troppo forse è un po' troppo sicuramente per le informazioni che ti da si però è anche vero che per te questi soldi non sono un problema vero vero cioè si non sono cioè come se te dicessero la coca cola costa 50 euro è tanto perché è evidentemente tanto si però 50 euro per te non sono 50 euro per l'unico problema che potresti avere è che se poi si sparge la voce che puoi spendere e sei disposto a farlo esatto è la fine perché è evidentemente tanto comunque però però lei vedendo che tu sei un po' titubante essendo riuscita nella prova ti dice possiamo fare anche solo un rio potrebbe essere un buon compromesso e un giro in stanza che poi la deluserà moltissimo o forse no e niente la seguo lei facendo al locandiere che state andando su uno degli uomini della locanda si mette davanti alle scale per sicurezza e ti porta in questa stanza che è squallida molto più di quanto c'era appena di sotto che già era squallido immaginate il peggior saloon del far west dimenticato nel Wyoming ecco quel genere di stanza lì quel genere di degrado questa evidentemente non era una locanda una volta era tutt'altro genere di edificio che è stato adattato perché tanto non gliene frega niente a nessuno si se ci sono delle stanze magari era un rio can non ho detto cose brutte sia chiaro le terme esatto si sdraia sul letto vedi che sta già iniziando a spogliarsi aspetta un attimo fermati mi interessano più che altro le informazioni è che ho sentito parlare del running Fukada Kojiro si e volevo sfidarlo no credo che arrivi nel momento sbagliato e perché? non ha mai lasciato il fianco di quel codardo di Wakisaka e sicuramente un duello non sarà sufficiente ad attirarlo fuori dal palazzo lo aspettavo e cosa lo spinge fuori dal palazzo? ora un bacio vabbè mi faccio baciare ok a stampo a stampo proprio con la faccia dei bambini esatto e quindi? cosa altro vuoi sapere su quest'uomo? che cosa può portare Fukada Kojiro fuori dal palazzo? tu sai perché ha dovuto abbandonare il suo padrone? so qualcosa c'è una ragazza c'è sempre una ragazza in questa storia no? si è vero potrei essere io quella ragazza? potrebbe essere lei c'è una ragazza che abita in un villaggio qui vicino e Kojiro si era innamorato di questa ragazza una contadina immaginerai che la sua famiglia non fosse contenta e che fine ha fatto questa ragazza? beh per evitare problemi all'uomo che amava è tornata al suo paese ma se tu la convincessi a venire qua secondo me un uomo ragiona poco quando vede ciò che ama e allunga le mani su di te cerco di sviarla cioè di spostarla no grazie non ho bisogno no grazie bene così fai un'altra prova questa volta questa volta di coraggio perché sai che a un certo punto se la fai arrabbiare si poi magari urla questa c'è di sotto il butta fuori e se o usa un filo del destino e se usa la mia specializzazione cambio di identità? attenzione a tiri e potresti guadagnare anche dei punti onore aspetta come intendi farlo? mi sono perso nel senso che gli faccio capire che sono ah ok questo è un altro discorso certo ora ho capito quindi tiro per coraggio ho fatto 5 3, 8 e tiro il ha preso anche un punto onore peraltro no solo col 6 quando c'è la prova che ho fatto 3 ok quindi non succede niente non riesce a convincere a desistere la comincia a desistere e lei comunque è stata pagata quindi capendo che non c'è trippa per gatti ti dice puoi andare quando vuoi però io terrò questa bottiglia prego e la dovrai pagare tu per te non costa niente cioè questo è veramente hai lasciato il caffè appeso al bar per dire quindi quando mi sembra di non destare sospetti magari anche giù di sotto anche la guardia scendo e pago quello che c'è da pagare e prendo il mio cavallo e mi sposto comunque in una più o meno dove ci siamo accordati ecco beh comunque di posti a Kengawa non ce ne sono tantissimi quindi o è il vicino al palazzo o è uno di questi ex Ryokan trasformati in locanda mi metto in un punto dove c'è di passaggio anche l'ingresso della città per loro beh lì senza problemi proprio sì sì aspetto loro noi siamo in viaggio e io ti dico vediamo San no, Sama no, Chan decisamente no, Kun Ryobe Kun che è lui a fa culo a namici Kun sì cosa posso barattare con te per convincerti a darmi l'occasione di affrontare questo spadacino in un combattimento leale? ma non c'è niente da barattare vuoi cominciare tu? fai tu, vuoi fare tu il lavoro? fai tu, l'unica cosa di cui voglio essere certo è che nel momento in cui tu non sarai in grado di compiere la missione io posso intervenire con i miei sistemi mi sembra assolutamente corretto d'altra parte se non sarò più in grado di risolverla con i miei mezzi sarà probabilmente morto quindi ecco, dovendo compiere altre missioni facciamo che se vedo che sei sulla via di morire perché intervengo prima hai mai assistito a un duello di spada fra samurai? un sacco di volte diciamo che quello che divide il fallimento dalla vittoria è un istante quindi o andrà bene o andrà male sì diciamo che tu hai mai assistito a duelle fra samurai? sì? da fuori eccomi quasi nessuno in realtà ok se avrai l'onore di assistere a duelle fra samurai saprai molto bene che a un certo punto si vede quando il duello è scritto oh questo è molto vero bene bene in quel caso intervengo io non potresti farlo il secondo successivo alla mia sconfitta? no io non posso accettare una vittoria che non è mia e non sarà tua ma tutti pensavano che lo sia sarà del grande Ryoda l'onorevole samurai del clan Oda va bene? è accettabile? quindi io duello con lui e se fallisco tu risolvi a modo tuo con Ryoda sì perfetto non ho altre parole da scambiare con questa persona il resto del viaggio passa lentamente perché appunto essendo tutti e due molto silenziosi abituati a farvi i fatti vostri viaggiare per forza con qualcun'altro è una forzatura è una forzatura non indifferente a un certo punto passa qualcuno che ci chiede se abbiamo un piano però poi poi prosegue ha una maschera una mezza maschera anche voi arrivate a vedere la città dove dovevate arrivare all'ingresso seduto dove sei? sono più o meno nella zona dell'ingresso come quando cominciano le case su un quel cavallo vicino a me è su una roccia si aspettano io gli faccio un cenno proseguo cioè non ignorandoti però probabilmente proseguo verso il centro della città mi fermo in mezzo alla piazza anche se abbiamo già scoperto che non funzionerà ma io non lo so metto le mani sui fianchi e grido Fukada Kojiro io ti sfido a duello presentati c'è talmente tanto rumore per strada che nessuno ti presta attenzione ma io alzo gli occhi al cielo proprio nella totale inefficacia l'unico che ti presta attenzione è un tizio che esce ubriaco da una locanda con del sake in mano ti sbatte addosso ti guarda e ti fa bevi! ti versa del sake in nulla perché non hai nulla in mano e poi si allontana di nuovo io mi volto, mi guardo e mi faccio cosa è successo a questo posto? la terza ci sta più importante della prefettura fino a un anno e mezzo io sto arrivando a piedi con il cavallo dietro di me se mi avessi aspettato forse ti avrei detto che non funziona così qui beh me lo stai dicendo ora non ci vedo un grande danno si a parte il fatto che ti sei reso decisamente ridicolo mi guardo attorno ci sono puttane ubriachi nessuno l'ha notato io l'ho notato ma l'unica persona che spicca in mezzo a questa polla sei tu forse Oda dovremmo rivedere quello che intendiamo con senso del ridicolo in un posto di questo tipo ci sia di sbagliato nel mio modo di vestire assolutamente nulla ma diciamo che non si confà esattamente al contesto bene cosa hai scoperto? ho scoperto che Fukada Kojiro non esce praticamente mai dal palazzo e quindi è praticamente raggiungibile se non il fatto che c'è una donna c'è una donna di cui lui era innamorato e che vive in uno dei villaggi vicini e che potrebbe essere una lieve interessante per farlo uscire dal suo nascondiglio almeno anche per poter fare un duello non lo so beh molto interessante potrei quasi quasi andarla a prelevare se voi mi concedete il permesso non vorremmo fare del male a una donna che non c'entra niente con questa faccenda ho detto prelevarla e non ucciderla non stavo riferendo le tue parole quello che sto dicendo è dopo che l'abbiamo portata qui come vogliamo spargere la voce in modo che il nostro Fukada la cerchi senza che per questo lei sia messa a repentaglio sa usare una donna per una cosa simile è qualcosa che mi genera qualche remoro potremmo tu devi combattere con lui, mica con lei potremmo spargere la voce che lei sta per sposarsi e... perché? il fatto che lei stia per sposarsi magari lo porterà a duellare con lo spasmante ma andiamo spero che tu non stia pensando a un ostaggio, a una situazione di ostaggio oh si assolutamente quando dicevo quando dicevo metterla a rischio intendevo esattamente questo guarda ci sono un milione di gradi del mettere a rischio noi prendiamo la ragazza la chiudiamo in una stanza legata con un salame e la lasciamo lì tu ti metti davanti alla porta che dà accesso a questa stanza ed eccoti il tuo duello noi saremo nascosti nelle stanze attigue se fallisci noi lo facciamo fuori ci sono molte cose che possono andare male in un rapimento questa... potremmo essere inseguiti potremmo dover essere... chi ti ha detto che io l'andrei a rapire? questo può andare meglio i contadini presentano un sacco di leve e io sfortunatamente le conosco tutte a questo punto hai tutta la libertà del mondo fino a quando nessuno a parte me o noi ci va di mezzo non vedo controindicazioni va bene? la cosa importante è che non sia fatto del male alla ragazza non ho mai detto di volerle fare del male Oda vuoi venire con me per sincerarti e per imperare a diventare uomo? e sarai vero e non c'è come vero e senti come puttano il vulcano attivo ho detto puttano esatto lui abitava vicino il vulcano accetto volentieri il tuo invito ok e tu rimani qui nel paese dei balocchi c'è un locale molto interessante vabbè d'accordo fai il nome della tua protetta così è una ragazza molto simpatica Yumi Yumi si chiamano tutte Yumi no la ragazza che state cercando si chiama Savako e pare essere la figlia del capovillaggio di Okusawa Okusawa è veramente appena fuori dalla città sarà un'ora di cavallo scarsa è un piccolo villaggio di campagna e quello che riuscite a capire chiedendo un po' in giro che cosa è successo di interessante nel villaggio prima di partire mi dicono che proprio la figlia del capovillaggio aveva cercato l'aiuto di un nobile samurai che difendesse il villaggio dai banditi che sarebbero andati alla fine dell'estate a rubare il riso raccolto Savako aveva trovato Kojiro che era disposto a difendere un piccolo villaggio indifeso che si è innamorato e è successo tutto il resto che già avete sentito Lui sperava di rimanere a vivere nel piccolo villaggio innamorato della vita semplice dei contadini della campagna e c'è stato il problema con il suo padrone il fatto di aver dovuto cedere il proprio titolo di samurai il fatto che ormai distrutta dall'aver messo a repentaglio l'onore del proprio amato lei l'ha rifiutato e non si sono poi più sposati ma lei non si è sposata lei non si è nemmeno più sposata perché nessuno voleva mettersi contro uno spadaccino leggendario che poteva decidere oggi mi giro ai 5 minuti e ti faccio pagare di aver sposato la donna che amo c'è il motivo per cui Casanova a Venezia le trombava tutte senza sposarne neanche una perché di solito le onte subite alle belle si risolvono con un duello di spada e Casanova era un bravissimo spadaccino quindi i mariti non lo sfidavano il viaggio a cavallo è estremamente noioso si però è anche abbastanza veloce comunque solo un'ora di viaggio ok arriviamo al villaggio cosa si vede? il villaggio è proprio il tipico villaggio di campagna c'è un piccolo fiume che passa vicino al villaggio hanno fatto proprio delle risaie che prendono acqua dal fiume sentite che stanno o raccogliendo o comunque stanno controllando il riso perché sentono i canti dei contadini nelle risaie il villaggio per il resto ci sono quello che vi aspetterebbe da un villaggio di campagna i vecchi e i bambini ok vabbè arrivo prendo un bambino la casa del capo lui ti indica con il braccio una casa non è più grossa o più bella delle altre ti sembra proprio un villaggio di quelli che stenta ad arrivare ogni anno alla fine dell'anno ok prendo un kunai lo lancio per terra e gli dico è tuo lui ti chiesa il kunai e corre via tutto divertito vabbè a tre anni poi se realmente si ucciderà è dato un'arma a un bambino è sparta se sopravvive diventa più forte dalla casa del capovillaggio sembra uscire un po' di fumo quindi dovrebbe esserci qualcuno che ha acceso essendo più o meno ora di pranzo avranno messo sul fuoco qualcosa da mangiare ok mi avvicino alla casa altrotto scendo scendo anch'io sentendo i cavalli qualcuno esce dalla casa è un uomo anziano che avrà 60 anni più o meno e si vede però che il lavoro nei campi l'ha invecchiato precocemente come tutti i vecchi dei cartoni giapponesi è il secchito era trapito e basso e vi guarda tenendosi una mano sulla schiena col bastone e vi dice cosa posso fare per un nobile samurai e la sua guardia del corpo sua figlia si chiama Savako? lui sbianca in questo momento perché l'ultima volta che un samurai ha chiesto di sua figlia è successo un casino giustamente si si cosa ha fatto questa volta? non ha fatto niente dovremmo parlare con lei mia figlia non è qui oggi dove sarebbe sua figlia? lui guarda più che altro lo guarda gli amici stava per dire ovviamente una roba non vera poi guarda gli amici e dice nelle risaie beh l'aspetteremo qui tornerà a casa vi deglutisce sonoramente certo accomodatevi pure fate come se la mia casa fosse la vostra casa e si gira terrorizzato dalla situazione entro in casa vi allunga due tazze e una brocca d'acqua senti vecchio quanto vuoi per tua figlia? mia figlia non è in vendita signore da questo momento lo è se no la tua casa viene bruciata i tuoi campi vengono bruciati tu vieni bruciato la tua famiglia viene bruciata quelli che si salvano meglio forse potrebbero essere anche impiccati te lo ricordi vero che cosa hai combinato l'ultima volta? senza tenere sotto controllo tua figlia fai una prova di crudeltà con vantaggio ok con vantaggio significa? che tiri due dadi e tieni il migliore ah ok 10 prendi anche un punto onore nonostante sia un'azione estremamente disonorevole ok e lui mi dice si avete ragione però ecco mia figlia è una lavoratrice molto molto costante si impegna tantissimo e quindi non averla più nel villaggio potrebbe essere un problema per me ma credo che un cocu sia più che a sufficienza guarda te la faccio molto breve un cocu è poco poco si si lo so te la faccio molto breve e anche un poveraccio lui è anche alla fine della sua vita quindi una ciotola di riso per un anno si cura esatto te la faccio molto breve c'è una descritta possibilità che tua figlia torni quindi abbiamo solo bisogno che lei faccia esattamente quello che le diciamo per cui sii molto bravo a persuaderla a venire con noi in modo che noi non si debba usare le maniere sgradevoli certo poi guardo lui lei si un cocu io prendo da sotto le vesti un sacchetto e lo lancio una di quelle tavolette che rappresentano i cocu lui la prende sognante praticamente perché probabilmente non ha mai visto un cocu vero in vita sua e gli dice aspettatemi qui mi lascia se ne va nelle risaie a prendere la figlia il prima possibile a questo punto di corsa e avete se volete tempo di visto? non si è fatto male a nessuno si a parte la minaccia quale? di dar fuoco a tutto il villaggio no ma quella non è una minaccia la minaccia è farlo la minaccia è che prima cominci con una casa poi un campo e poi prosegui così era solo una chiacchiera sembra che tu abbia molta esperienza in questo genere di cose no l'ho visto fare e sono semplicemente pronto a farlo vediamo un po' questo ragazzo dopo una ventina di minuti trenta minuti il capovillaggio torna e vi porta sua figlia che effettivamente è una ragazza molto molto bella non fate fatica a capire perché Kojiro si sia innamorato di questa ragazza soprattutto dell'idea di sposare una ragazza di campagna e rimanere a vivere nella sapendo di avere dietro i soldi da samurai che gli permettevano di fare quello che voleva certo era tenere il piede in due scarpe e la ragazza viene da voi e vi dice mio padre mi ha detto che vi serve una ragazza per aiutare un nobile samurai e che questo da oggi sarà il mio lavoro corretto quindi si butta praticamente per terra si prostra e vi dice perdonate la mia presentazione così poco adatta alle vostre nobili esigenze ai vostri nobili occhi mio padrone non preoccuparti sei comunque stata una figlia buona a accettare questa richiesta possiamo quindi andare? si da questo momento è una tua responsabilità certo hai una licella finchè è sotto la tua responsabilità funziona a modo tuo se e quando passa sotto la mia responsabilità funziona a modo mio questo è il massimo del mio onore che ho a verne prendi pure le tre cose ti aspettiamo fuori ok mentre uscite sentite che lei proprio si sta tirando dei secchi di acqua addosso per pulire il grosso del fango che aveva sulle gambe almeno e dopo una decina di minuti è fuori perché non è che abbia molto più di quello che va addosso bene beh io la faccio comunque salire a cavallo con me possiamo parlare a chi di tutto il tempo ok fammi una prova di onore per questo perché in realtà lei è praticamente una buraco sono gli intoccabili della società ok onore? si quindi sempre un D6 più la tua riserva massima di onore ok ho fatto 8 in totale ok passi sopra la cosa perché sai che le stai dando un'opportunità per il suo villaggio perché altrimenti verrà messo a ferro a fuoco e non vuoi che nessuno muoia per le tue azioni sconsiderate e soprattutto lei ha dimostrato di capire che non si può comportare la contadina con voi certo quindi per quanto venga da uno degli strati non un buraco in vero e proprio però abbastanza lì ma siamo lì vicino ha dimostrato di capire che cosa ci vuole per viaggiare con un samurai quindi tutto sommato chiudi un occhio e andate oltre e quindi dopo un paio d'ore riobe e anamici tornano con la ragazza Savacco e anche tu capisci perché ecco Giro si è innamorato di Savacco bene abbiamo una ragazza ecco noi qual era il piano? il piano? il piano è che adesso avete detto piano? scompare un pizzo per una mezza maschera esatto per scompare un pizzo per una mezza maschera al ronin dicendole che Savacco è con noi la mia calligrafia è peggiore della tua e il mio spirito iniziativa su queste cose è peggiore del tuo oh non c'è problema scrivo io prego anzi scrivo io parto dal presupposto che mi abbiano insegnato a usare una calligrafia talmente neutra che è non indicativa battuta Arial 10 in qualche strano modo esattamente quindi scrivo una veloce missiva domanda volete conoscere il contenuto della missiva? beh io vorrei leggerla poi no io aspetto due a me non frega niente scrivi scrivo un messaggio assolutamente generico Savacco ti aspetta qui alle sapendo dove lui lo vuole incontrare dove lo vuoi incontrare? eh? dove lo vuoi incontrare? qual è il territorio più neutro in cui fare un incontro di squadra? proprio l'ideale sarebbe trovare un dojo che vi ospita in questo luogo è fantastico beh il fatto che la città sia caduta in declino potrebbe anzi aver portato a qualche dojo a diventare ancora più ferreo nelle proprie regole esatto facendo tipo mini fortezza all'interno della città vero verissimo cerco un posto simile e se non lo trovo cerco un dojo ottenuto dalla Yakuza ecco l'alternativa è quella e gli chiedo se vogliono vedere uno degli incontri di spada migliori dell'ultimo anno fai una prova di sincerità ok per capire qual è il dojo che ti può dare quello che c'è posso usare duellare? eh? come specializzazione ok fortunatamente ci riesco e prendi anche un punto onore yes e il primo punto onore mi servirà il primo punto onore che prendi finalmente sei di onore dopo due ore e venti di puntata sei riuscito a prendere un punto onore dicendo uno ti brucio la casa hai distrutto la figlia va bene oh fico allora effettivamente il fatto che la città sia caduta così in declino ha portato uno dei dojo della città a diventare una specie di fortezza d'acciaio all'interno della città per aspettare il momento in cui il capo clan Wakisaka morirà, non ci sarà più uscirà finalmente di casa e quindi loro potranno prendersi la città raddrizzare tutte le schiene che si sono ammosciate nel frattempo e riportare la città a quello che doveva essere senza venire meno a loro dover rispettare il proprio padrone ok quindi sostanzialmente hanno portato dentro tutti i guerrieri bravi hanno lasciato lui le guardie sega nella speranza che morisse il più velocemente possibile ok e quindi il dojo di Musashi dice apre volentieri le spade a un ronin cioè apre volentieri le porte a un ronin nonostante tu sia un ronin proprio perché rispetto al resto che c'è in questa città tu sei la manna dal cielo certo e il proprietario del dojo Musashi Miyamoto ti dice è finalmente un onore riuscire a poter vedere la tecnica di spada del cane randaggio ho sentito parlare di questo posto sono felice di vedere che non ha seguito il destino del resto della città e non lo seguirà finchè io sono vivo ne sono felice sto guardo le come si dice le persone che si stanno allenando mille ripetizioni di questo mille ripetizioni di quell'altro mille men mille cose esatto come si dice come praticano questi? beh vedi che la loro disciplina è veramente molto ferrea ed è estremamente in contrasto con tutto il resto che hai visto in città ovviamente certo non sono tutti allo stesso livello ma non sai se è perché alcuni sono dei novizi e altri sono invece degli spadaccini esperti però comunque in generale anche quelli che non hanno una buona tecnica ti rendi conto che non hanno la tecnica perché ci stanno ancora lavorando sopra e si vede che ci stanno lavorando quindi si impegnano c'è molto impegno da parte di tutti vedo che in questo dojo avete tutto ciò che serve e io spero che la tua spada sia in grado di compiere il miracolo per questa città questo potrà dirlo soltanto il duello come avete convinto come avete convinto Fukada a partecipare a un duello? io l'ho sfidato innumerevoli volte abbiamo puntato sul suo narcisismo tutto ciò che ama tutto ciò che ama è una immagine di se stesso e ciò che rappresenta questa immagine è la vita che voleva capisco beh qualunque modo voi abbiate usato in questo momento è più importante eliminare l'unico ostacolo al successo di questa città attorno a questo duello orbitano molte orbitano i fili che si intrecciano di molte storie ognuno dei quali è importante a modo suo ma ad essere del tutto onesto a me interessa solo il duello le tue parole sono sagge cane vedi che però quando lo dice non lo dice con disprezzo certo è che ti sei guadagnato quel nome è come il nome d'arte di una geisha certo io mi inchino medito e aspetto voi nel frattempo volete fare qualcosa? io si vorrei sapere dalla rete shinobi ninja eccetera se esistono delle missioni aperte in questo luogo contro il daimi contro il signore giusto ok e fai una prova beh slealtà è il anzi fai una prova in generale di disonore ok 5 fallito con un bel fanball con un bel fanball prendi un punto disonore nessuno ti rivela nulla perché se ci sono missioni in corso nessuno te lo dirà per paura che vengano messe in pericolo da voci che potrebbero girare giusto quindi no non hai assolutamente idea di nulla mi sembro al minimo domanda meditare mi aiuta a recuperare quel punto di tenacia che ho perso a causa dell'umiliazione che ho subito davanti al daimio? sì fai una bella prova di dovere in questo caso direi ok porca puttana no ho fatto uno hai perso un altro non solo quando tu ti metti a meditare è sportivo sì non hai ancora superato la no no è vero però è che quando ti metti a meditare invece che passare oltre riuscire a superare mi cintigno ti cintigni e quindi rimani proprio cazzo sono proprio un coglione che bello ci sta la sera sì quando il sole sta per iniziare a calare sentite battere sulle porte d'ingresso del dojo di Musashi e le porte si aprono lentamente una cosa io sono quella ragazza ok che giustamente mi hai detto quindi quando si apre la porta fuori dal dojo compare quello che se tu non sapessi che era un ronin non avresti mai detto che era un ronin ah perché vivendo comunque a palazzo del capo clan ed essendo l'unico che sì certo solo per denaro però è l'unico che gli è rimasto fedele certo si può permettere delle cose che un ronin non potrebbe permettersi chiaro è perfettamente rasato è perfettamente pettinato ha un ottimo kimono la sua katana è bellissima in un fodero di lacca rossa tutto quello che un ronin vende per poter sopravvivere nelle strade dell'impero o che non ha tempo di fare lui se lo può permettere quindi è ronin di titolo ma è un samurai vive da samurai vive da samurai completamente da samurai e quando avanza con un braccio dentro al kimono e l'altro appoggiato sull'elsa della katana capisci quell'aria di di superiorità e di superbia e di sicurezza di sé di cui ti avevano parlato e fai una prova di onore sei più sei prendi un punto onore e tu ti rendi conto che questa sicurezza di sé potrebbe sembrare sicurezza di sé a chi non è altrettanto sicuro certo ma ai tuoi occhi è solo superbia e la superbia è proprio uno dei comportamenti disonorevoli in cui un samurai rischia di cadere infatti io sono completamente al contrario sono sporco l'acero per niente magnificente inginocchiato non cerco di apparire umile sono semplicemente focalizzato e concentrato su quello che sto facendo e questo fare smargiasso mi scivola addosso proprio in una totale indifferenza tanto che non voglio neanche farci leva cioè semplicemente non lo considero quando entra io alzo la testa sono ancora inginocchiato lo guardo e gli dico Fukada-sama io sono l'unico ostacolo fra te e la tua amata Savako affrontami e potrei essere ricongiunto a lei una cosa io sono anch'io dentro comunque al dojo e sgozzo Savako in una stanza e mi tolgo la mastica mi hai anticipato ma guarda un po' ma dice boia in una stanza che da su comunque il piazzale dove lo rotano il duello per adesso è chiuso con una porta una paletta di riso una paletta di riso di carta e un rollone di riso stesso e io guardo un attimino guardo comunque il duello comunque tutto sotto controllo Kojiro si toglie la manica del kimono per essere più libero a metà e ti dice no, non hai capito come funzionerà questa cosa ora tu mi dimostri che Savako è viva sta bene e le permetti di andarsene da qua oppure questo duello non avverrà mai io voglio essere sicuro che lei stia bene per ora ho solo la parola di un codardo che l'ha attirata con l'inganno fino qua ho la tua parola d'onore che il duello avverrà? assolutamente all'ultimo sangue si intende? all'ultimo sangue è l'unico modo in cui si può fare un duello bene, comunque il codardo sono io gli dico lui voleva solo un duello scuotto la testa no, però sto zitto sto in silenzio l'ho fatto apposta lo volevo lo volevo incazzato dove è Savako? adesso vado a prenderla vedi che ti sta perforando il cranio con gli occhi beh, guarda arrivo vado su da Riobbe io continuo a chiamarlo come un uomo quindi sei quel che vuoi essere Riobbe il nobile spasimante della dolce Savako vuole assicurarsi che stia bene apro lei vi guarda perché nessuno le aveva detto cosa stava succedendo esatto quindi com'è? chi è? quando è? apro la porta e faccio vedere appunto il piazzale penso che si vedano si, si vede lei vede Kojiro si sporge verso la finestra e urla Kojiro! lui si gira di scatto proprio se tu non fossi una persona onorevole in questo momento gli potresti piantare una spada tra le spalle e non se ne renderebbe conto e la vede e gli urla Savako! stai bene? si sto bene e vabbè la ritira indietro la ritira indietro vedi che lui fa due passi avanti si gira verso di te cosa le state facendo? niente Fukada-san un cane a randaggio non morde una donna indifesa sbarazzati dal cane e goditi la sua compagnia fai un'altra prova di dovere per convincerlo a fare il duello prima che Savako sia fuori da qua duellare e provocare che vuol dire che prendi punti onore anche con 4 non solo 5 e 6 6 e 6 si questo è un 6 e 6 ok prendi due punti onore mi servono e vedi che Kojiro si gira verso di te e ti dice cominciamo ok io mi alzo lascio il wakizashi a terra l'altra parte l'incontro è un incontro con la spada e mi metto davanti a lui col potere lui non ha ancora sfoderato niente è solo davanti a te quanto hai di onore? io ho 6 anche lui ha 6 quindi vinci tu perché sei un protagonista se avete lo stesso identico onore di un PNG agite prima voi certo allora ma aspetta questo lo userò dopo io lo guardo è una Nemesi giusto per bene darvi un'idea ok bene o male nel manuale ci sono gli stessi personaggi Gregari addestrati e Nemesi fun fact sta a te ah voi quanto avete di onore? nel caso vogliate fare qualcosa nel frattempo 4 2 ok allora io come massimale? sì onore massimo? sì sì 2 io sporgo cioè sono praticamente sono davanti a lui fronte a lui con il fodero ancora cioè il fodero in mano impugnato in mano nella mano destra a altezza della della vita metto si vede soltanto il mio piede destro che saggia il terreno e si sposta appena indietro e gli dico a te il primo colpo fu Katasan la tua posizione di combattimento? e lui ti risponde stando esattamente fermo come era prima con una mano sull'elsa della katana siamo in due e il braccio penzolante lungo il corpo ti dice sono già in posizione sorrido quindi siamo in due e quello che voglio fare è consumare la prima parte del combattimento come un duello di sguardi ok cioè abbiamo due stili di combattimento stranissimi perché nessuno di noi con la spada sboinata io non ho neanche una spada e siamo cioè invece che farla a kendo con la spada davanti a sé per mettere la maggior distanza possibile esaggiare con la come si dice con la con la parte iniziale ma non col forte della lama l'avversario come si farebbe nel kendo noi siamo completamente fermi e spendo un filo del destino ok per per incrinare la sua sicurezza per una volta lui non è davanti a un samurai non è davanti a un combattente non è davanti a nulla che abbia mai visto in vita sua o che non abbia mai visto in vita sua fino a questo momento ok è davanti a qualcuno che è come lui ma non potrebbe essere più diverso da lui è davanti a una persona sporca piena di lividi che ha visto innumerevoli battaglie e che è passato oltre la coltre di falsa sicurezza di cui di cui si ricopre e per una volta lui capisce che io sono un avversario degno e su cui proprio come i samurai che lo affrontano non sanno niente di lui lui non sa niente quindi la mia prima stoccata la sua tenacia è qualcosa di morale ok e con i miei sei punti onore che devo spendere adesso io voglio sbarazzarmi del mio danno alla tenacia perché in questo momento non c'è nient'altro che il combattimento e butto fuori cioè e lascio e chiudo fuori dalla porta qualsiasi altra cosa ottima scelta come funziona spiegami i monogatari il danno esattamente come in clotus per ogni punto che spendi quindi puoi aumentare il danno ma quando lo fai usando un filo del destino l'avversario può usare la propria difesa e prendere al massimo un danno certo quindi beh io gli altri quattro li utilizzo no anzi gli altri cinque li utilizzo tutti per io non li voglio buttare via non li posso utilizzare ok li utilizzo tutti per fare in modo che da lui l'idea di star combattendo per Savako per un momento svanisca e lui si concentri nel combattere me ok basta io prendo Lupo Solitario ok che mi sembra una cosa molto intelligente in questo momento racconta cosa fa Lupo Solitario Lupo Solitario è una abilità che ti permette di minimizzare il il danno che subisci quando sei da solo in una scena cioè io elimino tutti i legami che avevo che ho che avrei eventualmente avuto ok ma quando sono da solo in in scena posso subire non più di un danno alla volta ok ok quindi la mia resistenza quando sono da solo si aumenta tantissimo ok noi prima che cominci non possiamo agire ti tiro la freccia a verenare no ci sta ci potrebbe stare ma no sì ma prima tocca a Kojiro quindi se volete agire prima di Kojiro io non voglio agire nel duello ok volevo solo dire una cosa a Ryoba ok allora dire lo potete parlare quando volete però se volete agire prima di Kojiro per qualsiasi motivo dovete prendere volontariamente un punto disonore e agire adesso infatti no 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 era semplicemente per dire una cosa ah ok mentre mentre succede questa cosa esatto giochi gli sguardi gli dico Ryoba se vuoi influire in questo duello prendi la ragazza porta la giù e mostra il tuo sorriso più ipocrite fissando Kojiro non è un po' troppo disonorevole influire in questo modo sul no stai rispettando l'etichetta è lui che si farà un sacco di domande su che cosa tu hai in mente per la sua bella Savako in realtà noi non abbiamo in mente niente per Savako altrimenti sarebbe con me beh questo è vero cioè allora io la porto giù con me però eh dopo però però allora la porti giù dopo dopo se la vuoi portare giù prima che lui faccia qualcosa ti pigli un punto disonore si si dopo ok la porto dopo quando il combattimento è già iniziato però voglio prestare attenzione a lui perché non mi fido anche io non mi fiderei di me ok eh nel momento che voi decidete se portarla giù come portarla giù e quant'altro Cogiro a questo punto dopo aver sentito le tue le tue parole e aver visto quel tuo sguardo penetrante fa un solo passo avanti e eh e ti dice sarebbe disonorevole da parte mia prendere il primo colpo dopo tutto tu non sei nemmeno armato e ti lancia il suo wakizashi e ti dice ora sei armato raccogli la spada e potrai iniziare veramente questo duello a meno che tu non sia veramente un cane bastonato che ha paura di usare un'arma da adulti e con questo ovviamente non sta cercando di mettere in crisi te come persona ma quello che tutti gli altri intorno a voi pensano di te in questo momento certo come vuoi rispondere a questa cosa perché da questo dipende il tiro che fai vedi Foucardasana ancora dimostri di non capire chi sono veramente io sono esattamente quello che hai detto io sono un cane bastonato a un cane non serve una spada per combattere sarebbe meglio per te mi considerassi armato e allora fai una prova di umiltà perché ti stai abbassando assolutamente si io lo ritengo io sto riconoscendo la sua forza o duellare provocare e battaglia di sguardi proprio tutto va bene ok ti prego sei mannaggia era un uno era un uno è caduto è caduto stavi per fare uno ho fatto dieci ok e io uso una dei miei punti di difesa per farti ritirare ok il punto onore lo prendo o no? no allora aspetta devo mettermi quattro perché quando gli dici queste cose lui ti dice lo so che sei solo un cane ma un bambino che prende a calcio un cane viene ripreso dai propri genitori il cazzo mi spiace ci ha provato quindi prendo due punti onore prendi questo è quello della specializzazione e basta ah e basta ok allora questi diventano cinque e la mia risposta è Fukadasana non ti facevo un bambino che ha paura di essere scoracciato adesso sta a voi che state scendendo in realtà questo duello non tireranno mai fuori una spada abbiamo capito adesso ti dico cosa voglio fare io scendo dalle scale che poi oddio vabbè mi metto praticamente giù a bordo della zona del duello con il braccio intorno alle spalle il savacco con le mani di sbucci le cipolle proprio ok fai una prova di onore cipolle cinque nove no non tanto per no per evitare diciamo il stesso perché un po' troppo e più che altro tutti gli altri che sono nella nel dojo che non sanno nulla della questione ti avrebbero guardato con molto disprezzo però forse riescono a capire che cosa stai facendo e sono così incazzati con Kojiro che sta difendendo una persona che dovrebbe morire che loro non possono uccidere quindi vabbè vabbè facciamo finta che non abbiamo visto niente oh com'è interessante questo duello ma non abbiamo visto nulla da questo lato e lì nell'angolino e invece il nostro anamici io mi posiziono esattamente dietro Savako in linea retta e guardo Kojiro con lo sguardo di chi fatti il duello e fatti ammazzare a duello perché fai una prova di crudeltà che stronzo è uno shinobi vive nel disonore sette ovviamente il mio mettere anche la mano sulla sua spalla è in modo anche per dire che se io sposto il braccio la catapulto lontano mi avevi promesso non è successo niente è successo tutto non è successo niente perché tu non sai sei il fisso sul tuo avversario però prendi anche un punto disonore ovviamente perché il master, il tessitore è libero di dare dei punti onore o disonore questa è una carognata assoluta prego Akagi io mi lancio verso di lui molto velocemente e voglio scatenare in lui una una reazione quindi voglio che lui sfoderi la spada ok il modo in cui mi lancio verso di lui è una posizione a cui lui da persona che ha svolto molti duelli dovrebbe essere abituato e a cui normalmente la cosa più sensata è rispondere con uno zuki che è una stoccata alla gola quindi non un fendente ma una stoccata quello che voglio fare io è intercettare la sua lama chiuderla nel mio fodero in modo da renderla inoffensiva e partire con il taglio della mano sul suo collo ok è più per disarmarlo o per colpirlo? no no è sicuramente per colpirlo il fatto è che io utilizzo disarmarlo è un di più se caso esatto cioè il discorso è io so che non posso fare un incontro di lami con un fodero ok perché una katana è una katana quindi il modo in cui io ho imparato ci sono 100 modi in cui ho imparato a terminare i duelli un colpo alla gola di solito per una persona normale basta per rimanere a terra con l'altra che è spezzata quindi io il fodero lo utilizzo o per colpire senza farmi colpire a mia volta o per intrappolare la lama dell'avversario che è una cosa difficilissima ma mi ci sono allenato un sacco ok quindi questo è un di più ok è una prova di coraggio si perché è scelerato è vero poteva addirittura essere quasi dislealtà però in questo caso è di coraggio perché io non ho comunque la tua tecnica di spada funziona così esatto ma poi non soltanto io non ho niente tranne il fodero quindi tu hai modo di riflettere su come lo userò e infatti è una prova di coraggio no aspetta no invece si 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 faccio 7 e io uso tutto l'onore che ho sul danno tutto ne ho 5 ok innanzitutto lui usa un altro di difesa e quindi tu ritiri ok 5 e 5 meglio di più quindi ho 6 di onore no non è vero si sono specializzato e lo colpisci si cancellati quel punto disonore che hai ok perché non sai nemmeno come sia successo ma prima che tu riuscissi a prendere la spada togliergliela di mano e dargli un colpo sulla gola ti ha fatto un taglio lungo il petto un mostro perché il Kenshi che è la nemesi che stai affrontando ti fa un danno a prescindere dal successo o dal fallimento dell'azione se lo attacchi in corpo a corpo e hai un punto disonore però posso usare no però gli fai una mazzata che lo butta a terra eh beh sì perché ho cioè io gli come si dice ho speso 6 di onore quindi ho fatto il danno base più 6 l'unica cosa è che non è morto quindi se non lo uccidete lui non smetterà di essere la guardia del corpo di Wakisaka certo io allora c'è un silenzio attonito per un secondo lui è a terra vedi che Musashi fa quasi uno scattino di muscoli per dire adesso gli taglio io il collo almeno metto fine a questa cosa infatti io volevo scattare su Musashi a cominciare a fare della persuasione infatti io mi guardo attorno gli dico avete visto come combatte un cannerandaggio guardo riobe oda gli dico oda questo è il momento in cui porti Savako fuori da qui aspetta dice Musashi devo parlare con quella ragazza beh il cannerandaggio è finito che della guardia del corpo del vostro odiato da Ainyu si occupi qualcun altro io non ho detto se per soccorrerlo o per ucciderlo io esco ho finito voi sapete che se non portate la spada di quest'uomo allo Shogun non vi crederà mai sul è morto o non è morto quindi qualunque cosa succeda la spada qualcuno di voi la deve prendere il fodero in questo caso non importante ah ah per una volta e Musashi si avvicina a Savako cosa io sono ferito ma la spada sua è nel mio fodero si io sono uscito Musashi si avvicina a Savako e tu che sei lì vicino senti che le sta proprio parlando quasi sotto voce in un orecchio perché per onore non può dire le cose che sta per dire si però vuole che qualcuno le senta tu compreso ok li manda in campagna e dice a Savako oggi Kojiro Fukada è morto abbiamo bruciato il suo corpo per rispetto in quanto artista marziale e tu sei tornata indietro ti sei sposata e hai vissuto la tua vita con l'uomo che hai se mai tornerete in questa città mi premurerò che non ne usciate più e si riallontana tornando verso il palazzo del dojo voi che siete lì Savako è abbastanza scossa dalla cosa vedi che sta cercando di far girare tutte le rotelline possibili le vado vicino e le do una spinta cioè levate vai e vattene aspetta verso il kojiro no la spinta è verso il kojiro ah ok ok e si toglie la maschera per vedere amici esatto e niente vado anch'io verso la porta io me ne vado però guarda do un'occhiata missione è compiuta ok missione è compiuta che mi frega si in effetti è vero scusa la spada ce l'abbiamo la spada ce l'abbiamo questo ufficialmente è morto è morto e basta voi quando uscite mi trovate con un volto un po' deluso non ancora abbiamo recuperato la spada si come vanno le ferite? ferite? mi guardo giù sangue allora non è stato così deludente mi assaggio il sangue era bravo non abbastanza pensa che hai fatto la scelta giusta di metterti uno di disonore perchè se no ti faceva tre ferite secche perchè ti va assuma tutto il disonore che hai e ti fa le ferite meno male e quindi mentre ripartite verso Obusa con la spada di Kojiro ah la spada di Kojiro si può metterla dentro da qualche parte grande si chiude questo speciale di Monogatari wow di cui questo è solo un pezzo dell'avventura c'è tutto il resto c'è il finale ci sono i fratelli da affrontare c'è lo Shogun da uccidere c'è un sacco di roba che può succedere ancora e le altre due missioni sono altrettanto interessanti e molto diciamo classiche lo stile dei manga cavolo interessantissimo ti faccio un domandone da interessato faccia per Luca farai un art cover speciale? no esce solo in edizione cartacea ok ma domanda il bivio all'inizio dell'avventura era un bivio? cioè era 100% un bivio c'è tutta la parte di avventura se scegliete di uccidere le guardie e mettervi contro lo Shogun infatti me lo stavo chiedendo anche io cavolo bellissimo ho sentito tantissimo onore disonore l'ho sentito tantissimo veramente molto permeante nel gioco sì c'è stato un momento in cui ho detto elimino tutto lascio solo onore disonore due punteggi poi però perdeva no ma funziona funziona benissimo troppo sapore e invece così devi decidere come agire ogni situazione secondo me con questi che ti aiutano a capire quale deve essere la direzione del tuo personaggio perché tu sostanzialmente la fissi all'inizio per poi giocartela così secondo me è proprio completo però è anche caratterizzante perché non è c'è abbastanza fluido da poter dare una forma al personaggio secondo quello che lo senti anche tu certo verissimo io le altre caste non le ho giocate quindi non lo posso sapere però i poteri del Ronin mi hanno dato molto il sapore di come si dice del contesto in cui ero e di come io mi rivolgevo quel contesto perché per esempio senza padrone può sembrare uno staccarsi dal contesto ma in realtà ti getta ancora di più nello stesso identico contesto facendoti chiedere ok io come percepisco il mio onore e il mio disonore nonostante il mondo mi dica che il mio onore e il mio disonore sono X è proprio bello ora per me è stato molto bello da Shinobi perché noi abbiamo preso una sorta di deriva che chiaramente mi tagliava fuori perché in mezzo a un dojo con 700 spandaccini non è che io potevo saltare lì in mezzo e andare via e quindi però è molto bello perché comunque si riescono a fare un sacco di mind tricks e quindi il mio personaggio è stato comunque al centro della vicenda anche se chiaramente il duello aveva la parte preponderante proprio perché la tenacia non sono più i punti ferita ma è quanto sei sul pezzo infatti al terzo round aveva già subito due danni la Nemesis il tuo e il mio cioè il mio di hai a che fare con qualcuno alla tua portata e il tuo la sua carabbiata molto bello Claudio, complimenti e il manuale lo troverete a Lucca allo stand Alleanza Games saremo in tantissimi quest'anno tantissimi ci troverete una stampa di prova di Not The End che non sarà in vendita ma la potete sfaccioccare e fare domande fare proposte se ne abbiamo il tempo e la voglia e il modo il tempo lo vedo poco però non si sa che cosa si sa mai la sera si può sempre vedere qualcosa in più non lo sa ancora nemmeno Claudio Bustorino ma ci sarà una terza persona di Fumble tutti i giorni che è Matteo 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 grande torna Matteo Luca a fuoco Luca on fire letteralmente perché con Matteo di mezzo non si sa dove potremmo andare a parlare ma che bello quindi passate a trovarci allo stand passate a parlare dei nostri giochi passate a parlare anche di altri giochi perché a noi tanto piace parlare di giochi in generale parliamo di qualsiasi cosa troviamoci a bere delle birre grazie altoplay alla tesoriera di Torino al Fortuna Dado che ci ha invitato e a tutti i membri dell'associazione che hanno organizzato sta due giorni di giochi di ruolo da tavolo ieri c'erano 130 tavoli tutti full bellissimo sono stati graziati anche dal tempo che ha piovuto stanotte e non oggi e non ieri perfetto quindi vuol dire che il destino premia i buoni esatto l'onore ti premia alla fine grazie quindi a Torino grazie ai giochi di ruolo grazie a voi che siete venuti a giocare questa partita di Monogatari per far vedere le ultime cose che nessuno aveva ancora visto grazie per che ci hai fatto giocare e noi ci sentiamo tra pochi giorni con Fumble Fantasy 2 la campagna di JRPG che stiamo giocando che è già degenerata con un reprise di Giovani Minchioni Cobol di Giovani Minchioni tutto il peggio di Fumble è lì e ne siamo molto fieri e ne siamo molto fieri il prologo è stato perfetto scoprirete qualche cosa di più nella prossima puntata e tra poco tra l'altro quando finisce Fabola Ultima inizia Coriolis con Not The End yes e io finalmente potrò usare la mia abilità tappeti non vedi l'ora di mettere in gioco tappeti io voglio giocare a Not The End solo per usare tappeti vediamo quanto spesso riuscirai a portarlo in gioco sempre sono più sicuro ciao a tutti e grazie alla prossima Fumble Fumble